Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri Marcello Passoni, Andrea Cabibbo e Bruno Piva. Risultano assenti la consigliera Maria Bonato. Adesso arriverà in ritardo il consigliere Loris Pasut, mentre il consigliere Walter Manzò è già presente. In riferimento all'articolo 67 del Regolamento del Consiglio Comunale comunico che è stata fornita risposta alle seguenti interrogazioni. Risposta scritta. Interrogazione numero 28 del 28 aprile 2015. Presentata dal consigliere Mara Piccin, avete per oggetto chiamate per le emergenze. Il Comune ha risparmiato. Comunico che, in sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio le decisioni prese dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari. Allora, l'ordine dei lavori sarà il seguente per questa sera. Allora, dedicheremo i primi 30 minuti alle interrogazioni, dopodiché passeremo alle... 30 minuti alle interrogazioni. Dopodiché passeremo alle deliberazioni fino al loro esaurimento. Pertanto dovremmo esaurire discussione e votazioni tutte le deliberazioni. Dopodiché, se si completerà questa seconda fase, prima delle 22.30, riprenderemo le interrogazioni. La chiusura dei lavori indicativamente per l'ora 22.30, salvo richiesta di maggior tempo per le deliberazioni. Si chiude con le interrogazioni. Bene, allora, sono le 19.07 e iniziamo la mezz'ora dedicata alle interrogazioni. Prima interrogazione, numero 10. Interrogazione sulla situazione degli uffici del giudice di pace di Pordenone. Il sottoscritto Francesco Ribetti, Presidente del gruppo consigliare PDL Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone, premesso che, già nel corso della precedente tornata amministrativa, lo scrivente aveva presentato apposita proposta affinché venissero spostati nei locali dell'ex biblioteca, lasciati liberi, gli uffici del giudice di pace e degli ufficiali giudiziari, ricevendo come risposta che quei locali erano stati promessi alle scuole di musica private. A distanza di anni tali locali restano desolatamente vuoti, ne è dato sapere le motivazioni per le quali non si siano ivi spostate, come riferite dalla precedente amministrazione, le scuole di musica. Al momento della richiesta dello scrivente, la situazione economica era decisamente migliore di quella attuale e non verrano vincoli stringenti derivanti dal patto di stabilità. La situazione dell'immobile adibito ad ufficio del giudice di pace è tuttora molto precaria, a limite da apparire addirittura non rispettose le norme di legge a tutela della sicurezza degli utenti e del personale che vi lavora. In particolare si segnala l'assenza di scale di sicurezza antincendio, magari posizionata all'esterno del fabbricato, la situazione dei locali posti al pieno terreno dallo stabile, impropriamente adibiti a magazzino di immobili o materiali. Parimenti alcuni di tali locali vengono altresì adibiti impropriamente ad archivio, con notevole presenza di materiale infiammabile. L'ascensore, che non appare rispettoso le norme di legge per consentire l'accesso alle persone diversamente abili. Parimenti ai servizi igienici, che oltre a non raggiungere un minimo di decenza, non appaiono assolutamente idonei all'utilizzo da parte delle persone diversamente abili. La situazione delle bocchette split erogatrici dell'area condizionata, che appaiono in pessime condizioni di manutenzione e pulizia, con grave rischio anche per i propagarsi malattie legionella. L'assoluta precaria condizione dei medesimi uffici per quanto riguarda altresì la sporcizia, apparendo gli stessi bisognosi di tinteggiatura. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale del gruppo PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se esiste il certificato di idoneità statica dell'edificio adibito ad ufficio del giudice di pace ed, in caso esista, ne chiede copia con trasmissione e antediscussione della presente. 2. Se parimenti esiste un certificato relazione ai vigili del fuoco relativa alla rispondenza a norma di legge contro il pericolo di incendi di tali locali. 3. Se l'ascensore dello stabile risulta idonea all'utilizzo da parte delle persone diversamente abili ed, in caso contrario, come l'amministrazione intende risolvere il problema. 4. Se i servizi igienici dello stabile risultano idonea all'utilizzo da parte delle persone diversamente abili ed, in caso contrario, come l'amministrazione intende risolvere il problema. 5. Le motivazioni per le quali non sia possibile spostare i fascicoli accantonati al piano terreno presso gli archivi di via Prasecco. 6. Le motivazioni per le quali parimenti non sia possibile spostare i mobili accantonati al piano terreno presso gli archivi di via Prasecco in altro luogo idoneo. 7. Se sia intenzione dell'amministrazione provvedere alla tinteggiatura dei locali e dalla pulizia delle bocchette erogatrici di aria condizionata. 8. Se sia intenzione dell'amministrazione provvedere all'adeguamento antincendio mediante costruzione di scala antincendio. Filmato Francesco Ribetti, Presidente del Gruppo Consigliare Popolo e Libertà Fratelli d'Italia. Assessore Moro, prego. Grazie. Allora, in relazione all'interrogazione in oggetto e sulla scorta delle relazioni degli uffici tecnici del Comune, riporto quanto segue. Esiste un documento di donità statica del fabbricato datato 5 luglio 1993, eredato in occasione del cambio di destinazione d'uso da scuola materna a sede degli uffici dei giudici di pace e degli uffici giudiziari. Risulta inoltre agli atti l'autorizzazione all'abilitabilità datata 2 settembre 1959 ed il certificato di collaudo dell'ampliamento inerente il vanno ascensore datato 24 maggio 1974. Stante la normativa tecnica dell'epoca e la suscitata relazione statica inerente alla destinazione d'uso del fabbricato, il dimensionamento dei solai prevede un sovraccarico di 350 kg per metro quadro. Punto 2. Richiamando la nota del 12-12-2014, a firma dell'RSPP del Comune di Pordenone, l'architetto Tiziano del Mestre, e dell'RSPP dei giudici di pace, l'ingegner Pamio, trasmessa al giudice di pace e coordinatore, dottore Sagarofalo, visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, la regola tecnica antincendi per gli uffici al momento non trova applicazione. Per quanto riguarda il titolo primo e secondo, in quanto il fabbricato all'epoca della promulgazione della stessa era già censito con destinazione d'uso ad uffici, ne è stato interessato da ristrutturazione. Per quanto detto, il fabbricato, se utilizzato secondo le destinazioni e gli affollamenti corretti, non è soggetto a CPI. Non vi è quindi alcuna cogenza in merito all'acquisizione di una relazione certificato inerente il rischio antincendio. Certamente nella gestione del fabbricato, che non compete all'amministrazione comunale, occorre e siano rispettati i requisiti di cui ha il DM 10 marzo 1998, che riguarda la gestione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, compito di spettanza del gestore dell'attività. Punto 3. L'ascensore, le cui caratteristiche di sicurezza sono comunque state certificate in data 6 giugno 2014 dall'ingegner Giovanni Argenton di Pordenone, non è idoneo all'utilizzo da parte di persone disabili per la stretta larghezza della porta, 70 cm anziché 85 cm. Nel merito, l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione complessivo, in più occasioni al Ministero di Giustizia, il contributo finalizzato all'adeguamento normativo e rinnovamento del fabbricato, a partire dall'anno 1994, in cui era stato redatto dal settore lavori pubblici del Comune, un progetto adeguamento complessivo, sino all'ultima richiesta del 26 marzo 2014, per un importo di 700.000 euro, al quale il Ministro non ha mai dato alcun riscontro. I servizi igienici non risultano idonei all'utilizzo da parte del personale e del diversamente abili. Per i punti 5 e 6 si è potuto constatare che dei vanni destinati ad aula e d'ufficio sono stati impropriamente utilizzati quale deposito di materiale combustibile, aumentando notevolmente il carico d'incendio presso lo stabile. Tale circostanza è stata determinata da una scelta organizzativa autonoma dei responsabili degli uffici, in questione, che hanno operato in larga misura negli ultimi mesi dopo l'avvenuta chiusura dei presidi giudiziari delle zone mandamentarie limitrofe. A tal proposito, sempre con la nota congiunta sopra richiamata del 12-12-2014, l'amministrazione comunale, a mezzo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Pordenone e del responsabile di Prevenzione e Protezione dei Giudici di Pace, indicava alla dottoressa Garofalo la necessità dello spostamento in altro luogo idoneo di detto materiale ed in primis presso l'archivio di Via Praseco. Nel merito occorre evidenziare che molto del materiale accattastrato negli ultimi mesi è costituito da arredi vetusti che si ritiene possano essere in parte eliminati o trasferiti presso gli spazi del magazzino comunale. In coerenza con la necessità evidenziata, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte dei responsabili degli uffici giudiziari in questione, si è provveduto al trasferimento di parte del materiale presso detti archivi, operazione che ad oggi risulta completata. Punto 7. L'amministrazione comunale ha previsto nell'ambito del programma annuale dei lavori pubblici, recentemente approvato, lo stanziamento di 70.000 euro con i quali saranno affrontati gli interventi di maggiore priorità che comunque allo stato dei fatti e da giudizio degli uffici tecnici dei lavori pubblici risultano essere quelli inerenti all'adeguamento del fabbricato al fine dell'utilizzo da parte delle persone disabili ed alcune manutenzioni straordinarie. L'adeguamento inerente e l'accessibilità per le persone diversamente abili consiste in una valutazione preliminare delle funzioni cui è destinato lo stabile, indicante l'opportunità di collocare il bagno disabili ed almeno una aula udienza ad un ufficio al piano terra. Tale assetto funzionale, che in buona sostanza è un ripristino delle originari destinazioni d'uso, consente inoltre di migliorare notevolmente gli eccessivi affollamenti del secondo piano, dove oggi sono ubicate tutte le funzioni dei giudici di pace dell'intera provincia ed oltre. Si prevede inoltre di adeguare un vano ad uso archivio dotandolo di impianti di ventilazione e fumi ed opportunamente compartimentato. Punto 8. Il decreto legislativo 10 marzo 1998, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, il punto 3.3 descrive le necessità di due uscite alternative ad eccezione dei locali a rischio medio e basso. Nel caso di specie si evidenzia che siamo nell'ambito del rischio medio e quindi può essere ammessa un'unica uscita. La norma inoltre indica che la possibilità di una sola uscita ai piani ai sensi del punto 3.5 del DM, sopra richiamato, è comunque permessa per gli affollamenti al piano inferiore alle 50 persone e quindi occorre attenersi a tale disposizione. Stante la conformazione distributiva del fabbricato, è comunque opportuno programmare nel breve e medio termine la realizzazione di una seconda via di esodo e quindi di una scala di emergenza al fine di evitare, per quanto possibile, il percorso di uscita a senso unico, come prevede la norma. Si ribadisce comunque che il fabbricato per il primo piano già dispone di una seconda scala e quindi si rende necessario ripristinarne l'utilizzo quale via di esodo del primo piano. Nel frattempo sarà necessario procedere ad una riduzione del rischio incendio tramite le attività di trasferimento e adeguate misure gestionali tese al miglioramento del controllo del luogo di lavoro e alla massima efficienza delle procedure di emergenza. Si evidenzia infine che il già citato programma triennale delle opere pubbliche prevede nell'annualità 2016, tra le spese finanziate con mutuo totale carico dello Stato, i lavori di sistemazione dell'ex biblioteca civica per gli uffici dei giudici di pace, dell'importo di Euro 500.000. A questo proposito, nel corso di un recente incontro congiunto, amministrazione comunale, Regione Friulenza Giulia e Ministero, è stato definito un percorso condiviso sull'ipotesi di spostamento dell'ufficio dei giudici di pace con impegni anche economici delle parti. Ha terminato, Assessore? Grazie. Bene, do la parola al Consigliere Ribetti per la dichiarazione di soddisfacimento. Grazie, Grazie Presidente. Ringrazio i tecnici del Comune perché dalla lettura che ha dato l'Assessore della risposta capisco che è stata una ricostruzione abbastanza complessa e articolata che ha richiesto un po' di tempo. Quindi ringrazio i tecnici che si sono prodigati a ciò. Non posso essere soddisfatto, Presidente, Assessore. Non posso essere soddisfatto prima di tutto perché prendo atto e spero che stavolta alle parole seguano davvero i fatti della questione che se ne sta discutendo da più di qualche tempo dell'utilizzo dell'ex biblioteca. Non è una cosa nuova. Ve l'avevo chiesto a suo tempo. Molte delle facce che siedono in quest'Aula erano presenti anche allora, però allora forse per motivi di opportunità ridosso del voto erano state fatte altre scelte. Perché lo ribadisco? Lo ribadisco solo per una semplice questione che l'ho messo anche nell'interrogazione. In quegli anni c'erano dei vincoli molto molto meno stretti. C'erano più soldi, non c'erano i vincoli di patto di stabilità che ci sono oggi. Noi oggi abbiamo una situazione che veramente, e molti colleghi consiglieri sono anche colleghi avvocati, lo sanno qual è la situazione dell'ufficio del giudice di pace. Non si può far finta di niente per motivi di opportunità e di convenienza. Lei prima nella risposta ha detto, Assessore Moro, che se non l'ho capito male io, tra le righe mi è venuto a dire che l'accatastare, quella roba, quel materiale, quei mobili desueti, non so adesso che termine ho usato, sembra quasi sia stata una scelta del responsabile di quell'ufficio. A me risulta un'altra cosa, che sia stata più volte sollecitato il Comune per far sgombrare quelle due aule che sono a piano terra, quelle due stanze a piano terra che venivano usate come deposito. Mi è stato fatto vedere che c'era una porta con inferiata di cui sembra che non abbiano neanche la chiave, se succedevano un incendio non potevano neanche uscire. Lei prima mi ha richiamato un insieme di normative del rischio medio-basso. Ecco, beh, io non ritengo che nelle giornate di udienze quelle aule siano un rischio medio di frequentazione, come lei mi ha detto. Se succede qualcosa, l'unica via d'uscita sono quelle rampe di scale molto strette, per poi non parlare della situazione indecorosa e vergognosa che c'è per le persone diversamente abili. Oggi come oggi e fino a quando non verranno fatte le opere che dite che volete fare, se c'è una persona diversamente abile che deve essere ascoltata, deve partecipare ad un'udienza, non può farlo, a meno che non sia il giudice che scende dal piano superiore. Ecco, per non parlare del fatto che non può recarsi ai servizi. Io credo che questo non sia degno di una città capoluogo, non sia degno di nessuna città, ma mai e poi mai di una capoluogo che poi con l'accorpamento di ufficio giudice di pace dovrebbe raccogliere tutti gli utenti della provincia. Quindi io ritengo che quella che è stata la risposta dell'amministrazione sino a questo momento sia una risposta assolutamente insufficiente e insoddisfacente, ma già dalle scelte di pianificazione. Qualcuno si potrà dire, ma noi siamo un'amministrazione che se l'è trovata. Beh, ci avete messo parecchi anni, perché per anni che quella biblioteca è libera, è vuota, è desolata. Avete dovuto affrontare delle spese per spostare gli ufficiali giudiziari che una volta erano lì in un altro stabile, che mi sembra vi sia stato dato alla Regione e l'avete messi là. Si poteva fare un'opera programmatoria unica, pianificatoria unica, con lungimiranza. Ma ripeto, eravamo a novembre-dicembre del 2010, le elezioni erano vicine e forse gli utenti delle scuole di musica valevano di più degli utenti della giustizia di tutta la provincia. Quindi sono assolutamente insoddisfatto di come l'amministrazione sinora ha dato risposta al problema e quindi mi auguro che davvero questi 70.000 che sono stati stanziati vengano utilizzati, ma anche a breve tempo. Io non ritengo, sensore, io lo ripeto, che non ci sia bisogno di una scala esterna, almeno per una seconda via di fuga. E obiettivamente non so quanto possa essere il costo. È chiaro che se si vuole dare seguito veramente al trasferimento in Piazza della Motta, allora potrebbe essere un'opera forse superflua, però dobbiamo avere la certezza, perché lei prima ci ha detto, se non ho capito male, che sarà a totale carico dello Stato i 500.000 euro di adeguamento. Beh, prima abbiamo la certezza che arrivano e allora si può evitare forse di fare quella spesa. Fino a che questa certezza non c'è, io non credo che la situazione è a rischio medio, come dice lei. Un ultimo passaggio, l'ho fatto sui bocchetti all'aria condizionata, mi è stato detto che non sono mai state pulite e possono essere veicoli di trasmissione di malattie, quindi mi auguro che in quei 70.000 riusciate finalmente a rendere quello stabile veramente decoroso. Grazie. Bene, grazie. Passiamo all'interrogazione numero 11. Comunicazione sul punto per i lavori su Via Nuova di Corva 2. Sottoscritto Francesco Ribetti, Presidente del gruppo consigliere PDL Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone, premesso che lo scrivente ha già presentato oltre un anno fa apposita interrogazione per chiedere l'UMI sulla situazione relativa ai lavori su Via Nuova di Corva, arterie di collegamento importante con tutta una parte della provincia. L'amministrazione rispondeva indicando come imminente l'avvio dei lavori. Successivamente passava in Consiglio Comunale Delibera, nella discussione alla quale veniva indicata nel mese di gennaio-febbraio 2015 la data di inizio lavori. Pare che a parte qualche piccolo insignificante approntamento, la situazione di tale via resti assolutamente pessima, neve e certezza circa la data di inizio lavori. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia, interroga il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere 1. se sia confermata a gennaio-febbraio 2015 quale data di inizio lavori, 2. se siano conosciute circostanze per le quali tale data possa subire eslittamenti in avanti. Firmato Francesco Ribetti. Assessore Conficoni, prego. Sì, sì, si sente? Sì, grazie Presidente, grazie anche al Consigliere per l'interrogazione, quindi alla possibilità di aggiornare il Consiglio sull'iter di questo progetto che sta comunque procedendo anche se in tempi leggermente diversi da quelli che avevamo immaginato. La perizia di variante è stata illustrata alla cittadinanza all'inizio del mese di aprile, dopo aver ottenuto la conformità urbanistica, il parere favorevole della Direzione Centrale Mobilità, Infrastrutture e Pianificazione della Regione riguardo alla possibilità di ricavare una pista ciclabile, l'autorizzazione paesaggistica, il parere della Direzione Centrale Infrastrutture per quel che riguarda, sempre della Regione, per quel che riguarda i calcoli strutturali, il nulla osteidraulico e dopo la conclusione dell'iter espropriativo con la notifica agli interessati dell'avvio del procedimento, è stata la perizia, dicevo, è stata consegnata alla Regione, è stata anche validata e gli avvocati delle parti coinvolte in questi giorni sono in contatto per addivenire al ritiro dell'avvertenza come da preintesa che è stata siglata nei mesi scorsi e tutto ciò chiaramente propedeutico alla ripresa dei lavori, per cui nel momento in cui l'intesa verrà formalizzata come nell'interesse e nella volontà di tutte le parti coinvolte il cantiere potrà essere velocemente riattivato. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Ribetti. Grazie, grazie Presidente. La ringrazio soprattutto perché ha avuto la decenza di non chiedermi se sono soddisfatto di questa risposta perché credo che nessuna persona possa essere soddisfatto di questa risposta. Innanzitutto non sono assolutamente soddisfatto delle convocazioni che sono arrivate perché sul punto, sull'oggetto, la mia interrogazione, ho messo apposta il numero 2 perché so già che dopo il numero 2 ci sarà anche il 3. Sul punto per i lavori di Via Nuova di Corva e non viene riportato trattino 2 come riportato nell'oggetto. Perché? Perché io avevo già chiesto, avevo già fatto questa interrogazione tempo fa e l'avevo fatta e ne avevo parlato anche nella discussione della delibera che era passata in questo Consiglio che se non sbaglio si parlava quando c'era stato illustrato il nuovo progetto. Assessore, lei a parte il fatto che non mi ha dato per niente una data, mi ha detto che verranno sbloccati quanto prima se lo augura, ma questo ce lo auguriamo tutti, ma non posso essere soddisfatto per una serie di passaggi. Cioè lei adesso mi dice, almeno così ho percepito io, ho capito io ma posso aver capito male, che il motivo per cui questi lavori sono ancora bloccati è perché quell'accordo tra gli avvocati non è ancora stato sbloccato? Di cui alla preintesa? Si, non è ancora stato firmato, di qualcosa con cui mi era venuto a dire nella scorsa interrogazione che avevate raggiunto un accordo per sbloccare i lavori. E non siete riusciti in tanti mesi a firmare questo, allora io capisco che il Comune e lei Assessore soprattutto chi deve firmare questo accordo abbia cose molto più importanti da fare, ma io ritengo che sia una questione di educazione, di rispetto, di buonsenso per tutte le persone che quella strada devono necessariamente farla tutti i giorni, più volte al giorno, per sia i pordenonesi che devono reccare fuori, sia quelli di fuori che vengono a Pordenone per svolgere tutte le varie attività, lavorare, venire nella città a capoluogo. Quindi ritengo che sia una mancanza di rispetto sia per i nostri cittadini, soprattutto per i cittadini fuori. Io non ritengo, non voglio usare una parola brutta, io non posso credere che il problema sia stato, sia quello che non è ancora stato sottoscritto, un accordo di cui lei mi ha già parlato e a cui ha già riferito a quest'Aula, perché sarebbe una grossa negligenza da parte sua. Io mi auguro che le motivazioni siano altre, Assessore, ma veramente che ci sono dei problemi che non riuscite a sbloccare, perché se il problema è quello che lei mi viene a dire, significa che lei deve dimettersi per il semplice fatto che sta dimostrando di non fare qualcosa che è da tempo che i pordenonesi e gli altri le stanno chiedendo. Allora se, visto che lei è pagato da tutti noi, da tutti i pordenonesi, per risolvere un problema, un problema che persiste, che permane, io non accetto che il mio Assessore mi venga a dire non è stato firmato un accordo di cui mi ha già parlato tanti tanti mesi fa, è una cosa che veramente credo sia inaccettabile. Allora io mi auguro, e ne sono convinto perché la conosco personalmente, che i problemi siano altri, che lei fra qualche mese verrà a venirmi che ancora quella preintesa è stata firmata ma non l'accordo è finitivo, mi inventerà qualcos'altro e mi auguro di sbagliarmi. Ma non posso accettare una cosa. Avete sbagliato tutto su quella strada, avete sbagliato dalla progettazione iniziale, avete buttato una valanga di soldi e non riuscite a mettere a posto una strada. Allora io dico col cuore in mano, se non è in grado di farlo, passi la mano, lo faccia fare a qualcun altro. Io guardi, la conosco, non voglio che la prenda come un attacco personale, ma si mette, lei ritiene da Assessore, visto che la ritengo una persona intelligente, di aver dato una risposta fattiva, seria ai problemi dei pordenonesi che per quella strada passano. Lei si reputa soddisfatto del lavoro che ha fatto. Io credo di no, Assessore. E ripeto, non è un attacco personale, è un attacco che deriva dalla visione e dalla constatazione di quello che lei ha fatto fino adesso, cioè nulla. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, passiamo ora alla interrogazione numero 12, sulla paventata chiusura dell'ufficio postale di Pordenone 5, via Candiani. Sottoscritto Francesco Ribetti, presidente del gruppo consigliare PDL Popoli della Libertà, Fratelli d'Italia, del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone, premesso che pare che la direzione delle poste italiane sia intenzionata a chiudere l'ufficio postale di Pordenone 5, sito in via Candiani. Tale ufficio serve una zona molto popolosa, è frequentata da molti concittadini ed anche da gente che giunge da fuori città e ivi transita, ad esempio proveniente da Porcia. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia, interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se rispondono al vero le voci che sarebbe intenzione alla direzione delle poste italiane, sia intenzionata a chiudere l'ufficio postale di Pordenone 5, sito in via Candiani. 2. Se sì, se l'amministrazione condivida tale scelta. 3. Se tale scelta non è condivisa, quali siano le azioni che l'amministrazione intende mettere in atto per impedire tale chiusura? Firmato Francesco Ribetti. Sindaco, prego. Grazie, grazie Presidente. Sì, è utile l'interrogazione, visto che avevamo già toccato questo tema in consigli comunali precedenti, per dare qualche informazione ulteriore di dove siamo in questo momento. Ricordo solo di che cosa si parla. Intorno, diciamo, fine febbraio, inizio marzo, i posti italiani, attuando un piano più generale di loro razionalizzazione, già presentato a giugno del 2014, ma non in termini così dettagliati e particolari, ha tradotto questo piano, per quanto riguarda la nostra regione, con la chiusura di, se ricordo bene, 19 uffici postali, parlo del Friuli Venezia Giulia, e la nostra provincia viene interessata da, dalla chiusura di questi 19, di 4, Pordenone, quello che lei ha citato nella sua interrogazione, Lestans, Ramuscello e il cosiddetto Maniago 1. Mentre, parlando di Vito Dasio e Castelnuovo del Friuli, è prevista la riduzione degli orari relativi di questi uffici postali. È chiaro che, come sindaci interessati a questa vicenda, era quello che vi avevo accennato, questo non si è potuto accettare, anche perché alcuni di questi uffici postali, nelle relative realtà comunali, rappresentano, a prescindere, diciamo, dall'effettivo numero di utenze, o quello che volete voi, puramente di business, ma un punto di aggregazione sociale che non può essere sostituito. Per quanto riguarda i centri più importanti, cito Maniago, Ramuscello e noi, e Lestans, è chiaro che c'era una grossa sorpresa, perché alla fine i numeri che a noi risultavano e che potevano, non sono mai stati dichiarati ufficialmente, per dire la verità, dalle poste, i numeri ci dicevano che quegli uffici erano ampiamente utilizzati e quindi avevano un flusso di persone che non poteva essere così facilmente smistato in altre località più vicine. Nel caso della nostra città, e quindi di questo ufficio di, chiamiamolo di Via Candiani, la situazione è che è in uno dei rioni più popolosi, con, diciamo, quello che viene definita anche dalle poste italiane stesse, un'utenza debole, insomma, piuttosto marcata, basta vedere, insomma, qual è l'afflusso mensile, e quindi ci siamo fatti portavoce con gli altri, due incontri in prefettura e sollecitazione attraverso l'Anci e la Regione, per capire bene una cosa del tipo, come potesse essere condotta alla ragione, e quindi abbiamo organizzato anche un incontro qui, in sala consigliare, insomma, una partecipazione molto, diciamo, forte, perché, insisto, oltre agli aspetti di puro servizio, gli aspetti sociali sono altrettanto importanti. Tutto questo, non solo qui, ha portato ad una sospensione dell'attuazione di questa chiusura, sospensione che è stata attuata, cioè, un momento, è stato messo, diciamo, in congelatore per un momento, questo piano di razionalizzazione, parlo del 9 aprile di quest'anno, dandosi due mesi di tempo per eventualmente riprendere la discussione. Adesso i due mesi sono scaduti, Anci e Regione non hanno dimenticato, lo dico perché li ho sentiti non più di 15 giorni fa su questo tema, non hanno certo dimenticato che il piano non è stato cancellato, è stato semplicemente rallentato e la nostra posizione, lo anticipo perché lavoro in costante unione con gli altri sindaci su questo tema, è stato che adesso a questo tavolo, visto che prima noi non eravamo stati chiamati, vogliamo esserci, fin dall'inizio, per capire esattamente le modalità di approccio. Io ribadisco quello che ho detto anche durante il periodo caldo, quell'ufficio postale deve non essere chiuso ma in realtà rivitalizzato, perché vedendo le caratteristiche appunto di quella parte della città, vedendo il tipo di utenza, noi abbiamo la possibilità di creare, ed è questo che ho chiesto ufficialmente a Posta Italia, di creare un certo livello di specializzazione nell'ufficio postale stesso, cosa che c'è un impegno da parte della direzione di valutare attentamente. Certo che alle parole devono seguire i fatti, quindi io mi aspetto che durante il mese di giugno sicuramente la discussione ripartirà, vi informerò nei prossimi, visto che avremo un certo numero di consigli comunali davanti a noi, vi informerò costantemente dell'avanzamento del tema. Insisto, come città, visto che eravamo trasversalmente presenti nelle riunioni che abbiamo avuto, proprio qui in sala consigliare, non tanto con le poste, ma diciamo con tutte le parti sociali interessate, l'importante è su questo tema mostrare la nostra assoluta compattezza, perché io l'abbiamo ribadito e sappiamo benissimo che Posta Italia vuole quotarsi in borsa, sappiamo benissimo che quindi vuole presentarsi come una società particolarmente importante dal punto di vista del capitale, quello che volete voi, però d'altra parte mostra un utile imbarazzante oggi, quindi se oltre a essere, non dimentichiamoci, la cassa depositi e prestiti. Ecco, allora io capisco che non bisogna essere particolarmente romantici, mettendomi nei panni di chi conduce Posta Italia, però alla fine noi abbiamo creato questa società che ha queste dimensioni proprio perché aveva una capillarità territoriale che è stata garantita quando le poste erano della pubblica amministrazione, altrimenti una rete del genere non avrebbero mai potuto averla. Quindi è questo che noi ribadiamo e mettiamo sul piatto della bilancia nelle nostre trattative. No, mi basta questo dibattito per avere il vostro mandato, grazie ancora. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Ribetti. Beh Sindaco, prendo subito al volo il suo consiglio, il suo augurio e pensavo di non dirlo, però veramente mi reputo soddisfatto della sua risposta. Per una volta mi ha risposto, per una volta mi ha risposto veramente a quello che ho chiesto senza fare giri di parole, ma mettendosi veramente alla parte dei cittadini. Quindi apprendo con piacere che lei sia mosso, abbia partecipato agli incontri e abbia fatto sentire quella che può essere. Ma infatti è successo per una volta, infatti me l'ho detto, ma quando succede, succede, lo riconosco. E quindi apprendo che questo problema sta a cuore all'amministrazione e me ne compiaccio. Ecco, quindi non posso che augurarmi che si continui magari, come nella strada che lei ha indicato, di una compattezza da parte di tutti, perché è un quartiere popoloso, l'avevo già indicato nella interrogazione, ma lei l'ha ricordato. Ha una fascia particolarmente debole, se non sbaglio ci sono anche zone un po' particolari, e anche di disagio, quindi si può capire che forse quella zona va preservata. Magari, ecco, magari se Poste Italia deve razionalizzare in qualche maniera, magari cercando in maniera diversa... Poste italiane? Sì, Poste italiane, ho capito. Passoni, sei attento, quando ti interessa sei attento, mi fa piacere. Come sono stati tutti. Poste italiane, quindi Poste italiane, S.P.A. Non conosco altri dati, il codice fiscale memoria non lo conosco, però... Ecco, comunque, ci ho detto, mi auguro appunto che l'amministrazione comunale continui nell'opera di controllo e da parte nostra vigileremo affinché lo faccia. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, si è esaurita la mezz'ora dedicata alle interrogazioni, pertanto passiamo ora alle deliberazioni. Allora, ricordo al Consiglio che era stata interrotta la discussione della proposta di deliberazione numero 14 2015, atto di indirizzo, proposta per sperimentazione su deregorari per musica nel centro abitato, presentato dai consiglieri comunali Loper, Fido, Piccinato, Salvador e Tomasello. Ricordo che era stato presentato un emendamento che è già stato distribuito, sottoscritto dal consigliere Daniello e anche dal consigliere Lopipero, Pedicini, Pietropoli, Charmè, che erano già intervenuti i consiglieri Loperfido, Giannelli, Piccinato, Tomasello, Salvador e che eravamo ancora il primo intervento. Perciò adesso chiedo a quelli che si erano iscritti a parlare di voler premere il pulsante. Allora, consigliere Piva, consigliere Pedicini, Ribetti, Cabibbo. No, consigliere Cabibbo, lei... No, ma doveva schiacciare il pulsante, come avevo chiesto. Eh, ma c'è il consigliere De Bortoli che si può... No, vabbè, grazie, ma scusi, si può disincerire un attimo e poi rischiacciare subito dopo? Sì? Cambia lei? Bene, benissimo. Pia, Pedicini, Ribetti, Cabibbo, perfetto. Allora, fermi tutti. Allora ricordo il consiglio, eravamo al primo inter... Scusate, eravamo al primo intervento. Posso? Eravamo, non un attimo, prima spiego come... Eravamo al primo intervento, avevano, erano già intervenuti i consiglieri Loperfido, Giannelli, Piccinato, Tomasello e Salvador. Erano iscritti, prima della mia interruzione, i consiglieri Piva, in quest'ordine, Piva, Pedicini, Ribetti e Cabibbo. Tutti quelli che non sono intervenuti possono, ovviamente, iscriversi a parlare come primo intervento. Bene, possiamo iniziare... Possiamo riprendere la discussione. Do la parola al consigliere Piva. Ricordo, ci sono 15 minuti di primo intervento e 5 il secondo. Prego. Ecco, grazie, Presidente. Niente, io qui abbiamo parlato e tutti ne hanno parlato che ormai la situazione è abbastanza, diciamo, delineata su quello che potrebbe essere poi la soluzione finale. Io voglio, il mio modo, il mio, diciamo, intervento vuole significare che c'è una possibilità di dare vita alla città con, diciamo, con delle iniziative che non sono finalizzate alla semplice musica, musica cosiddetta ad alto volume, ma bensì a tutta una... La musica ha una, diciamo, una componente variabile che permette di dare risposta e soddisfazione agli appassionati senza bisogno di urlare o gridare, in definitiva. Ciò comporta sicuramente il non intervento dei vigili in caso di superamento dei limiti, in definitiva, perché, insomma, musica classica, musica leggera, insomma, può essere qualcosa che viene ascoltata anche volentieri. Variare un po' quella che è la proposta, che si può anche legare non specificatamente alla musica, credo che sia comunque, diciamo, un'offerta che può dare la città ai cittadini, che può dare i vari bar, diciamo, locali in cui si possa produrre questo tipo di iniziativa. L'importante è comunque, credo che per tutta questa situazione, diciamo, così variegata, può essere anche, diciamo, funzionale in un orario più consono, cioè, dieci, dieci e mezza può anche smettere, cioè, gli amanti della musica leggera, gli amanti, non è che hanno bisogno di stare fino alle due e sentire, vedono, ascoltano e apprezzano comunque quello che è il loro piacere, la loro sensibilità, gli permette di godere di questi momenti. Per cui, credo che il compito che dovrebbe avere il sindaco o questa commissione che è stata istituita, sarebbe proprio quello, cioè, di trovare di comune accordo con chi volesse dei vari locali, un accordo proprio di proposta alla città. Sicuramente sarà un successo, perché ognuno vede le proprie cose secondo le sue funzioni, i suoi modi di vedere. Per cui, più proposte la città dà ai cittadini, e credo più sbocco e più volontà di avere vita all'interno della città ci sarebbe. Credo solo che ci sia questo tipo di, almeno a mio parere, in definitiva, che può essere limitato anche alle 10, 10 e mezza di sera. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, consigliere. Scusate. Potete dare la parola al consigliere Bianchini, per cortesia. Consigliere Bianchini, per una mozione d'ordine. Sì, volevo capire se era possibile, Presidente, sono d'accordo tutti. Siccome credo di aver capito che ci sono stati dei contatti tra la commissione creata dal sindaco e le parti in causa, e quindi esercenti e cittadini, prima di continuare gli interventi, forse sarebbe interessante da parte anche di noi consiglieri sapere di questo passaggio, così poi i nostri interventi sono anche più finalizzati. Se è possibile, grazie. Chiedo all'amministrazione se ci sono stati questi contatti e se ritiene di fare una breve relazione. Assessore Moro, prego. Sì, ci sono stati... Allora, il gruppo di contatto, chiamiamolo così, ha avuto nella giornata di venerdì pomeriggio un incontro con i rappresentanti di pubblici esercizi e nella giornata di oggi un incontro con alcune... un'associazione in particolare, Acquanova, che ha espresso nel passato alcune posizioni rispetto all'argomento e alcuni cittadini che avevano presentato delle... avevano fatto delle raccolte di firme. Abbiamo semplicemente discusso, perché la delibera, comunque la proposta è ormai sulla bocca di tutti, sui giornali, abbiamo cercato di spiegare qual è l'intento ovviamente della delibera, che poi è quello che è stato spiegato anche qui da alcuni consiglieri. Dopodiché, ovviamente, abbiamo anche raccolto come amministrazione e come gruppo alcune suggestioni, alcune informazioni che ci sono state fornite. Ci riserviamo, ovviamente, questo era semplicemente un passaggio interlocutorio anche per accelerare un attimino i tempi, ci riserviamo ovviamente successivamente all'eventuale approvazione della delibera, l'indirizzo, di affrontare così come previsto dalla delibera poi la questione. Per cui questo è stato sostanzialmente l'oggetto dell'incontro con le associazioni. Beh, adesso onestamente non mi ricordo, io non le ho, perché alcune raccolte di firme sono arrivate direttamente da alcuni consiglieri, mi pare che c'è Riccardo Piccinato che ne aveva ricevute, si sono state inviate, non tantissime, voglio dire, comunque... Facciamo... vuole intervenire anche l'assessore? Prego. Allora, per specificare, nel primo incontro abbiamo insieme ai consiglieri promotori incontrato le associazioni di categoria che hanno dimostrato una disponibilità a proseguire nella procedere, nella sperimentazione, consci della necessità che questa vada a tutelare sia gli interessi dei residenti e che, d'altro canto, serva come elemento di promozione. Quindi sono anche emerse da subito delle ipotesi, delle idee, più che anche delle stesse rivalutazioni o possibilità di ragionare sulla proposta della delibera stessa. Nel senso che, ad esempio, noi ho detto, beh, se la facciamo a luglio, facciamola il giovedì che i negozi sono aperti, perché così si uniscono le varie attività commerciali e magari mettiamoci noi come pubblici... vi riporto quanto detto, eh... mettiamoci noi come pubblici esercizi la disponibilità di fare dei percorsi del gusto, quindi andiamo a cercare qualche fornitore locale... Sono stati decisamente propositivi. Oggi l'incontro che si è svolto ha visto la presenza dell'Associazione Acquanova, che nel nostro territorio è conosciuta come una di quelle che maggiormente segue ed è attenta a queste tematicità. Erano presenti dei singoli residenti che avevano letto dell'incontro dalla stampa e quindi si sono presentati ed era presente un rappresentante di un... di abitanti... di residenti di Corso Vittorio che, a seguito del consiglio precedente dove era iniziata il dibattito, ha innescato una raccolta di firme che è stata consegnata in segreteria del sindaco. Con loro naturalmente la questione... Ah, e poi c'erano, sì, appunto alcuni residenti, l'avevo già detto, del centro. Con loro naturalmente il dibattito si è spinto più sulla questione della necessità del rispetto delle regole che sono il vero elemento problematico che loro sottolineano. E la paura è quella che il... pur condividendo, cioè, da un lato c'è stata una sottolineatura del fatto di dire non è nostra intenzione immaginare un centro storico silente o morto, ma ci piacerebbe un centro storico nel quale, uscendo di casa, non trovi qualcuno che è espletato delle funzioni corporali sul mio portone. O abbiamo una serie di locali che sono, che tutti sappiamo, che sono quelli più, diciamo, allergici al rispetto delle regole e nei confronti dei quali sappiamo anche la possibilità di incidere con dei mezzi che siano efficaci ed effettivamente calzanti, capiamo noi stessi essere difficoltose e spuntate, cosa che ha anche approfondito molto dettagliatamente l'assessore Moro. Quindi la loro idea è quella del cercare anche altri luoghi dove si possa incentivare questa proposta culturale e che siano meno in conflittualità con l'aspetto residenziale del centro. Le assicurazioni sono anche, e anticipo, mi perdonino i consiglieri che erano presenti, anche il consigliere Giannelli che si è presentato, Diciamo che il sunto di quello che è la posizione dei residenti si è sviluppata soprattutto nella richiesta di avere nel mese della sperimentazione un maggiore controllo per chi non rispetta le regole. Questo dovrebbe scaturire in un emendamento a firma del consigliere Giannelli che verrà presentato in aula. Devo dare la parola al sindaco per competenza di informazione e poi do la parola anche al consigliere. Penso anche correttezza nei confronti delle persone che hanno presentato queste 60 firme. Il documento di accompagnamento, una paginetta, dice, in relazione a quanto ha preso durante il consiglio comunale svoltosi il 25 maggio in merito alla proposta di delibere, eccetera, avente ad oggetto la sperimentazione per gli orari della musica nel centro cittadino, osserviamo che tale documento racchiude in sé tre differenti progetti di riqualificazione e valorizzazione. Il primo progetto mira ad aumentare la clientela delle attività commerciali. Il secondo progetto afferisce alle esigenze dei cittadini di fascia giovanile in cerca di un luogo di aggregazione e divertimento durante le ore notturne. Il terzo progetto punta alla valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale di Pordenone. Pensiamo che la difficoltà di dialogo con la cittadinanza residente nel centro nasca dalla confusione di questi obiettivi, così come sono stati presentati in sede consigliare. Partiamo dal progetto che è al terzo posto in ordine di importanza, pur ritenendono noi al primo, valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale. Un centro città vivo è un centro più pulito e più sicuro, e la valorizzazione del patrimonio costituito dai musicisti di Porta Indonesi, che da sempre hanno dato lustro alla nostra città, dando loro maggiori possibilità di esibirsi e creando eventi che li sostengano, che sostengono è iniziativa lodevole e condivisa. Nulla questo su tale proposta, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni. Le esibizioni non dovranno terminare oltre le 23.30. La musica dovrà essere suonata in esecuzione acustica, come d'altronde già previsto dalla delibera. Gli esercenti dovranno garantire il massimo rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurando, inoltre, la pulizia delle aree antistanti all'esercizio, in quanto interessate dagli effetti dell'attività commerciale, e dovranno a tal fine vigilare sul fatto che gli avventori non abbandonino i rifiuti all'esterno del locale. Il secondo progetto riguarda la movida dei giovani cittadini. Legittime appaiono nelle loro richieste ed esigenze, ma è evidente che il centro città non è il luogo più adatto a questo fine. Si propone che vengano individuate aree utili a questo scopo, senza far scontrare residenti e non residenti. Trovate il giusto equilibrio tra le diverse esigenze, sicuramente le attività commerciali otterranno il giusto ritorno. Ringraziando dell'attenzione i sottoscritti cittadini eseguono le circa 60 firme a cui si è accennato prima. Non so se era questo, ma comunque era per... Grazie. Bene, adesso abbiamo ottenuto ulteriori informazioni, possiamo riprendere il dibattito. Consigliere Pedicini, prego. Io faccio il mix di tutto quello che tengo. Se non la sigla... Non pensa. Cos'è che devo fare? Non ho sentito. Non ho capito, scusa. Non ho sentito cosa ho detto. No, no, ma non ho sentito veramente. Bene. Intanto grazie. Allora, questa delibera, così come si sta sviluppando rispetto al dibattito dell'altra volta e quella di questa volta, mi sembra un po' il gioco dell'assurdo. Perché, non so se avete notato, giochiamo tanto su alcuni argomenti che dovrebbero essere scontati, invece arrivano qui dentro e non lo sono più. Uno di questi argomenti, se mi permettete, è il rispetto delle regole. Io, signor Sindaco, non sono stato molto al Teatro Verdi questa sera, però l'ho ascoltata nel suo intervento. E lei ha detto, cos'è che ci distingue a noi dalla carinzia? Dice, in carinzia, che sono peggio di noi dal punto di vista economico, però c'è una certezza del rispetto delle leggi, delle regole, giusto? È quello che lei ha appena detto. Da noi, dice questo, viene messo in discussione. Noi siamo l'esempio di questo, di quello che lei ha appena detto un'ora fa al Teatro Verdi. Arriviamo in un consiglio comunale, beh, più o meno, no, no, non è più o meno, se stiamo discutendo, se tutti si preoccupano che le regole qui non vengano rispettate, perché se leggete la preoccupazione dei cittadini, è quella di dire, sì, vabbè, ma se autorizziamo la musica, e poi dopo, dopo non si controlla, dopo non si fa, poi non si vede. Sì, tutto insieme, però, non sto facendo, dico, cominciamo dal nostro piccolo a dare il buon esempio. È un po' come guardate, oggi circolavo per la città, e mi accorgo, scusate, non è importante quello che sto dicendo, ma almeno fatemelo dire un po' in silenzio. Il problema è come dire che autorizziamo le biciclette a circolare per la città. Poi mi accorgo che ci sono biciclette che invece di seguire la pista ciclabile, abbandonano la pista ciclabile e vanno contro mano in curva. Uno arriva dalla curva e se lo trova contro mano il ciclista. E però, la pista ciclabile girava dall'altra parte, però il ciclista che non vuole andare a seguire la pista ciclabile gira dalla parte opposta e me lo trovo contro mano in curva. Non sia mai che succede qualcosa perché poi diventa anche un problema e questo si sviluppa più volte all'interno di questa nostra città. È come quella che lei ha appena detto l'assessore prima, lei dice anche lì, nessuno dice che bisogna vietare la circolazione delle biciclette, ma ci sarebbe, bisognerebbe spiegare ai ciclisti che mettono a repentaglio la loro incolumità e la comunità anche degli altri e creano anche dei problemi quando non rispettano le norme del codice della strada e vanno per dove gli pare e sbucano da tutti gli angoli e perché pensano forse di avere una precedenza. Il fatto stesso che ho sentito dall'assessore Toffolo che avete fatto l'incontro e qui bisogna presentare una mozione per il rispetto delle regole mi sembra un assurdo sinceramente perché ho sentito prima ha detto verrà presentata una mozione perché si rispettino le regole. Ma capite che stiamo veramente cominciando ad andare fuori di testa un po' tutti quanti. Diamo per scontato che qui si rispettano le regole ecco punto questa città è una città che rispetta le regole punto perché se cominciamo già noi e siamo con la nostra mentalità è la stessa mentalità che gira a livello nazionale state attenti perché a livello nazionale quando si deve fare una legge si comincia subito il legislatore a pensare eh ma quello mi frega io faccio la legge e quelli trovano la possibilità di frodare la legge allora diventa tutta arzigogolata tutta complicata e tutto si prevede questo in altri paesi non voglio citarli si dà per scontato il rispetto delle regole dopodiché chi non le rispetta viene severamente punito ma perché ti ho dato fiducia ritengo che tu rispetti le regole al momento che tu le regole non le rispetti intervengo in modo massimo allora facciamo cerchiamo scusatemi cominciamo nel nostro piccolo e per una cosa anche posso dire banale non è neanche così fondamentale e non è la fine del mondo quello che stiamo sembra che stiamo facendo una delibera per la rinascita di Pordenone quella del convegno di stasera e noi invece qua stiamo facendo una piccola delibera che dice semplicemente in questa nostra città vogliamo favorire lo sviluppo anche di un'attività musicale all'interno del rispetto delle regole che sono quella dei decibel che sono quella degli orari che sono poi tutte già scritte abbondantemente all'interno della delibera non ci dovrebbe neanche essere tutta questa preoccupazione allora se noi torniamo alla normalità per un momento ci dimentichiamo tutte queste preoccupazioni e già il fatto che ci siano le preoccupazioni vuol dire che c'è qualche problema proprio per il discorso della carinzia che è di noi vuol dire che di credibilità noi abbiamo un pochettino di meno e più insistiamo meno credibilità abbiamo perché i signori che sono stati qui nel consiglio comunale l'ultimo e hanno sentito il dibattito gli è venuta voglia di scrivere di raccogliere quelle firme perché evidentemente non hanno raccolto molta credibilità qua dentro perché se no andavano a casa tranquilli con la piena fiducia di dire quel consiglio comunale farà sicuramente una bella delibera che verrà rispettata e non ci sono problemi ecco che allora quello che voglio dire seconda questione non è un problema del centro città io in queste sere di caldo bravissimo io abito a Borgomeduna c'è la festa di Borgomeduna e io sono la mia finestra da e ovviamente ho le finestre aperte e lì si suona fondamentalmente musica ad alto volume con gli altoparlanti la sento benissimo nella mia allora non è un problema solo penso che quando c'è la festa in piazza è la stessa cosa a Villanova a Porcia sì a Rorai la stessa cosa adesso in queste sere c'è Borgomeduna e pensavo queste sere pensavo proprio a quelli che si lamentano in centro dicono eh ma in centro ma guardate che anche in periferia non è da meno però quando è l'orario io so perfettamente che dopo le 23 e 30 qualcosina di più non di meno smettono e non si sente più niente ovvio se uno vuole andare a dormire prima ma d'estate di solito generalmente si sta un po' più lunghi quindi non è un problema il problema è di tutta la città non solo dei quartieri la musica si fa in centro però lì la musica che immagino io in centro è un po' mi sarà a tutti forse a molti di voi sarà capitato magari qualche sera di trovarsi a Roma e di andare a cena a Trastevere a Trastevere è un luogo dove si fa musica tantissimo nei locali ma io non ho mai notato a tutte le volte che mi è capitato di andare non ho mai notato né Cagnare né musica fuori dalle righe quasi molti locali fino a una certa ora la possono fare fuori dopo la fanno al proprio interno il suggerimento che avevo dato parlando anche col giornalista di non amplificare la musica per esempio è così perché è la stessa sensazione che ho avuto io è stato un fatto positivo allora a me vengono in mente altre città altri locali dove la musica o all'estero Berlino per esempio mi viene in mente anche Amsterdam dove musica se ne fa e se ne fa parecchie all'interno ma io non ho mai sentito né Cagnara né possibilità di cose eccetera se poi ci riferiamo a quelle che sono le manifestazioni non so si faceva in piazza 20 settembre non so se si farà ancora se si fa Radio Birichina cosa faceva il festival show era quello che si chiama certo quello pompa tutto il volume ma va a un certo orario sono le manifestazioni che si svolgono non so se si faranno ancora o hanno delle regole eccetera ma quello di cui noi parliamo non sono le manifestazioni non sono i grandi spettacoli o gli spettacoli musicali che si possono fare quelli che stiamo per esempio programmando adesso per la festa del noncello è stato messo tutto al 23.30 come chiusura e quindi anche se è fuori se è lontano dal centro storico ma nello stesso tempo messo all'orario delle 23.30 perché viene fatto normalmente allora quello che immaginiamo è una città che fa musica che i locali svilupperanno questa musica ma non è detto che debbano fare fanno molto più Cagnara per esempio senza bisogno di avere musica i giovani che si trovano o quelli che si trovano in piazza del Cristo per esempio fuori dal bar a bere l'happy hours fino a un certo orario oppure io ricordo e lo dico molto francamente che a volte non c'è bisogno della musica perché ricordo delle estati quando avevo i bambini piccoli e tre o quattro cinque ragazzotti si sedevano davanti sotto il portone di casa mia e stavano lì a discutere e parlare che quando è a un certo orario bene ma dopo l'una le due di notte quelli che chiacchierano si sentono molto bene e se fanno un po' di baccano lo si sente e quella non è musica quella è solo confusione solo chiacchierate allora l'invito che voglio fare io a questo consiglio è tornare allo spirito della delibera tornare alla possibilità di immaginare una città che nel rispetto delle regole sviluppa anche l'attività musicale all'interno dei propri locali che ha attenzione nel farla verso gli altri cittadini ed è lo spirito della delibera che mi sento di sottoscrivere anche col nostro emendamento che va poi a chiarire alcuni punti e va proprio in questa direzione che ho sottoscritto con la consigliera Daniello quindi tornare a questo spirito e trovare tutti insieme uno spirito e non serve che dedichiamo un'intera serata due sere tre sere a una delibera come questa ma diamo la possibilità in questo periodo di sperimentazione a questa nostra città e diamoci fiducia l'un l'altro e non abbiamo bisogno di firmare gli emendamenti che chiedono il rispetto delle regole le regole le rispettiamo ci impegniamo tutti a rispettarle e immaginiamo che i nostri cittadini rispettino le regole coloro che non vorranno rispettare queste regole è bene che siano puniti e siano puniti nel modo adeguato ma io sono convinto che se vogliamo essere una società civile come lo siamo noi possiamo affrontare questa delibera con serenità e possiamo anche pensare che facciamo un passo avanti io non credo e vado in conclusione che questo risolverà il problema del commercio cittadino i danni al commercio cittadino sono stati commessi negli anni e ne sono stati commessi tantissimi non voglio qui mettermi ad elencarli e forse qualcuno che oggi vuole difendere il commercio cittadino è proprio colui o coloro che hanno causato il degrado del nostro commercio cittadino che oggi è monomarca funziona solamente pochi imprenditori locali sono solamente dei franchising e così via basta girare per il nostro centro storico ci rendiamo conto che dei vecchi vecchi commercianti di Pordenone ne sono rimasti veramente pochi e quei pochi che sono rimasti sono lì che tirano avanti ma sono sommersi ma dai locali vuoti primo e secondo da chi fa attività molto occasionale che non ci fa crescere non ci fa portare avanti allora dobbiamo ricostruire un tessuto che è un tessuto di commercio di residenti ma questo questa ricostruzione passa attraverso tutta una serie di scelte che non sono solamente quelle della musica in centro questo è ovvio è solo una piccola parte però lasciatemi concludere questo intervento con un'immagine quella che ho davanti agli occhi dei locali dei luoghi dove mi è capitato di andare e trovavo un clima sereno serale dove si poteva fare della buona musica ci si poteva e tutti quanti attenti a fare della buona musica ma anche a rispettare gli altri ecco io voglio immaginare che la nostra città sia questa e la delibera che noi andiamo a fare questa sera va in questa direzione non avrà risolto tutti i nostri problemi ma sicuramente è un passo avanti grazie grazie consigliere Pedicini consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente farò un intervento molto veloce perché credo che sia stato già detto parecchio su su questo però credo che un paio di punti vadano sottolineati qua non è una soluzione molto semplice da prendere perché bisogna contemplare due esigenze da una parte abbiamo evidenziato in molti l'hanno evidenziato in molti la ricerca e la richiesta di vitalità di maggiore sprint che può provenire sia dai fruitori che hanno così dai ragazzi che possono frequentare il centro sia magari dagli esercenti che vedono un po' carare i propri diciamo così il proprio il proprio fatturato e soprattutto sono attenti e vogliono cercare anche di dare sempre in una loro ottica un'offerta in più ai clienti dall'altro però bisogna contemplare le esigenze a mio modo di vedere legittime di quelli che in centro vivono di quelli che giustamente potrebbero essere penalizzati voi per ragioni di età o meglio preoccupati più che penalizzati voi per ragioni di età voi per ragioni di salute eccetera potrebbero essere preoccupati e potrebbero leggere questa questa deroga quasi come un attentato al loro diritto di tranquillità quindi mi metto nei panni di un po' di tutti che dobbiamo valutare dobbiamo cercare quelle che sono le esigenze da far convivere c'è un altro aspetto forse è stato detto è stato affrontato anche in l'altra l'altra volta l'altro consiglio comunale che è quello che riguarda un aspetto che a mio modo di vedere può essere collegato che è quello che riguarda poi la pulizia del centro perché è vero che è bello vedere un centro pieno è bello vedere che è un centro dove tanta gente fa festa però inevitabilmente quello può portare diciamo ad atti di gente che si lascia andare io sto cercando un po' di mischiare un po' il calderone nel calderone mettere un po' quelle che sono le valutazioni io dico anche una cosa noi abbiamo un regolamento adesso prevede le 11 e mezza la richiesta che viene fatta che è nella delibera si parla di arrivare fino a luna c'è un'ora e mezza di differenza sì no meglio sto al virtus no non volevo fare proprio per carità però la domanda che mi sono posto leggendo leggendo la delibera quello che ostacola in questo momento quello che viene richiesto quell'ora e mezza in più per due sere a settimana ecco in un mese vabbè che sia un mese per modo a vedere poi adesso sì no dico è questo che può risolvere il problema agli esercenti no sto arrivando Fausto ti sto spiegando fammi finire il ragionamento poi dopo se legittimamente potrai legittimamente esprimere il tuo dissenso nel tuo intervento quello dico cioè quell'ora e mezza è sufficiente in quelle due fine settimana a cambiare le cose in due giorni scusi della settimana è quello che fino adesso sta ostacolando cioè io voglio capire qual è la razio perché io non credo che possa essere questo o solo questo è un insieme di cose credo allora magari non so stavo ragionando se deve esserci un intervento da parte dell'amministrazione a supporto a supporto della creatività artistica delle band dei giovani pordenonesi oppure che un intervento che vada nel complesso potrebbe essere un intervento anche sostanzioso del senso prevedere delle non so degli interventi delle sovvenzioni economiche a queste delle band che vogliono suonare perché io non credo che dando una deroga di un'ora e mezza per un periodo vai a incrementare così tanto sia la creatività dei giovani questo è il mio pensiero che sia la creatività dei giovani sia vai a non so se vogliamo vedere dal punto di vista degli esercenti gli vai a migliorare gli incassi se vogliamo vedere dal punto di vista di quelli che fruiscono il centro cioè è un problema complesso da prendere sicuramente per come la vedo io potrebbe essere si può sperimentare per carità è giusto la sperimentazione prima di prendere una decisione però è una sperimentazione il mio modo di vedere che deve però tenere fermo e questo l'hanno già detto altri delle linee rigorose delle linee rigorose a tutela ripeto di quelli che sono contrari a questa cosa di quelli che in centro vivono mi spiego meglio poi vado a chiudere velocemente se viene data la deroga allora la rigidità che magari spesso abbiamo tra virgolette dico criticato perché spesso parlando con sia con gli esercenti ma anche con i ragazzi stessi assessore non solo con gli esercenti dicono ora qua abbiamo sforato di mezzo minuto di sabato sera mi arriva la pattuglia dei vigili che è stata chiamata dal vicino ecco è una rigidità che se può essere criticata nel momento in cui la deroga non c'è nel momento in cui c'è la deroga allora attenzione che anche il mezzo minuto diventa importante per la tutela proprio perché tornando a quel discorso di facevo prima bisogna contemperare varie esigenze però e qui rilancio e rilancio soprattutto per quanto dico l'intervento comunale sarebbe bello magari se si decide di fare questa cosa magari ampliarlo anche un pochino più nel tempo voi avete parlato nella vostra nella delibera è stato parlato di un mese siamo in estate lo ricordava prima anche il collega Pedicini magari allungarlo visto che il periodo estivo si dorme magari si va a letto un po' più tardi la gente esce col favore del clima mite eccetera si può anche pensare magari di sperimentarlo per un periodo un pelo più lungo del mese proprio di ripeto sfruttando l'estate arrivando magari al ridosso delle vacanze di agosto non lo so la sto lanciando io lì così però ripeto ecco io citerrei che l'amministrazione quando e se andrà a dare queste linee operative su due punti non transiga il rispetto della deroga allora sì veramente fiscale e soprattutto tutto quello che gli ruota attorno e penso al problema della pulizia io abito in centro ogni spesso il fine settimana mi capita di fare il tunnel di casa che sembra di essere in un urinatoio ecco quindi per carità io non dico che le cose siano collegate però può capitare che in periodi in cui c'è tanta festa c'è tanto qualcuno si possa lasciare andare quindi dico se deve essere fatta sperimentazione ben venga è giusto che venga fatta per un periodo contenuto magari può essere un pelo più lungo del mese previsto giusto perché così si riesce a valutare i risultati e poi quando si tienano le somme definitive però che vengano fatte con la valutazione concreta e corretta di tutti i risultati grazie grazie consigliere ripetti consigliere Cabibo prego sì grazie presidente io sono convinto che i consiglieri che hanno proposto questo atto di indirizzo sicuramente lo hanno fatto mossi da fini nobili e sicuramente condivisibili però sinceramente mi chiedo come mai sia necessario stare qui un consiglio comunale e mezzo a discutere di questa delibera che di fatto è una mozione quando abbiamo mozioni ben più importanti su temi ben più importanti ferme da due anni e mezzo questa era una questione che il sindaco e la sua giunta potevano tranquillamente decidere se fare o meno si tratta di una sperimentazione una deroga al regolamento di igiene cumulale non riesco a capire per quale motivo ci sia stata questa discussione enorme su un fatto che non sposta assolutamente nulla né in termini di aiuto economico alle attività al commercio o all'animazione allo sviluppo turistico perché stiamo parlando di un mese quindi di quattro a fine settimana e di un'ora e mezza in più a serata allora veramente dico mi pare che ci sono argomenti ben più importanti da trattare che non questo e proprio per questo farò un intervento breve per dire soltanto alcune cose alcune considerazioni che però secondo me vanno comunque sottolineate allora intanto noi dobbiamo chiederci per quale motivo è necessario o è utile che sia permesso di utilizzare musica fare attività musicale che comunque comporta tutta una serie di conseguenze fino a luna di notte ora ci sono comuni che sono comuni di vocazione turistica o comunque che hanno nella loro storia nella loro cultura anche un divertimento spettacoli di strada eccetera che chiudono tranquillamente a mezzanotte io a Bibione so che a mezzanotte c'è l'orario per cui anche i locali che fanno musica dal vivo devono chiudere mezzanotte e mezzo Lignano non mi risulta che nella godereccia Triviso che quanto a divertimento e a attività culturali e musicali ci fa sicuramente da maestra ci siano orari fino a questo fino a luna di notte quindi non mi sembra che sia una cosa diciamo necessaria nel panorama a questo aggiungiamoci il fatto che spesso e volentieri tutte queste attività che sono certamente attività ripeto in sé positive perché la musica è un valore e va sicuramente aiutata e sponsorizzata vanno poi di pari passo con il consumo in dosi massicce di alcol perché qui dobbiamo dircele le cose chiaramente come stanno mi pare che forse non è stato abbastanza evidenziato perché caro amico ribetti giustamente se vanno ad urinare sotto casa o se vanno a vomitare sotto casa lo fanno non perché hanno digerito male la cena di qualche ora prima lo fanno perché bevono perché si ubriacano allora questo è un punto fondamentale cioè fino a luna di notte gente ragazzi e anche minorenni che fanno utilizzo di sostanze alcoliche senza alcun controllo senza alcun freno ora naturalmente non può il consiglio comunale svolgere un'azione educativa nei confronti dei giovani e nei confronti di questo tipo di comportamento però mi sento anche di dire che scusate non lo devono fare neanche gli esercenti quindi dire che compete agli esercenti e commercianti controllare che queste persone si comportino in modo urbano altrimenti sono loro i responsabili ecco anche questo francamente non mi sembra corretto allora non ci dobbiamo stupire se poi una ragazzina di 13 anni viene abbandonata in coma etilico al parco noi ecco di pomeriggio ecco allora dobbiamo anche noi ripeto pur senza sostituirci in un ruolo educativo che non ci compete però dobbiamo dare dei segnali allora io mi chiedo se sia effettivamente necessario che fino a luna di notte si continui a fare musica e potrebbe anche andarmi bene ma si continui a somministrare bevande alcoliche a chiunque senza alcun controllo e qui il problema è questo il rispetto delle regole ma se le regole non vengono rispettate qualcuno deve andare a controllare e sanzionare chi queste regole non le rispetta quindi prima di tutto questi controlli vengono fatti c'è una presenza delle forze dell'ordine in piazza 20 settembre perché sostanzialmente di questo stiamo parlando che verifica quali sono i comportamenti cioè sono venuti diversi cittadini che abitano nella zona centrale di Pordenone da me a dirmi il problema non è tanto la musica l'alto volume perché quello potrebbe anche avere dei risvolti piacevoli nelle serate estive il problema è appunto il comportamento di questa gente che poi va urina sporca vomita nei portoni sotto casa a questo aggiungiamo il fatto che non viene fatta un'adeguata pulizia poi cioè anche questo impegno il comune se autorizza una simile attività che sia ben consapevole del fatto che poi il giorno dopo bisogna passare ma non così con con la scopa bisogna passare a pulire la piazza che non è che non è adeguatamente pulita allora vedete cioè ci sono anche luoghi e luoghi non è detto che piazza 20 settembre debba diventare il contenitore di tutte le attività turistiche e ricreative e musicali di questa di questa città anche ad esempio in occasione del mercato europeo non mi è sembrata una location eccezionale quella scelta abbiamo molti luoghi molti siti da valorizzare anche magari non in centro città che si presterebbero in maniera più adeguata cioè vedere le le distese di griglie con questa carne distesa al sole che veniva cucinata per ore con schizzi dappertutto eccetera ma vi sembra che piazza 20 settembre fosse il luogo adeguato per questo con fumi di ogni tipo e di ogni genere allora guardate veramente non voglio fare assolutamente il bacchettone perché non è neanche nel mio carattere ma ripeto abbiamo una città che ha una voglia di trovarsi di stare insieme di divertirsi e mi auguro di farlo ovviamente in modo sano allora valorizziamo dei luoghi diamo la possibilità ai giovani di esprimersi di utilizzare determinati ambienti citavo prima Treviso a Treviso in piazza dei signori non accade quello che accade a Pordenone in piazza 20 settembre e non possiamo certo dire che Treviso sia una città dove i ragazzi o gli universitari non si divertono o che sia una città bacchettona a Treviso hanno avuto la possibilità o forse anche la intelligenza imprenditoriale di creare dei luoghi adatti al divertimento notturno e che permetta ai giovani e comunque a tutte le persone di divertirsi senza recare danno o disturbo allora ripeto benvenga l'idea di movimentare il centro ma assolutamente rispetto delle regole applicare le sanzioni a chi queste regole non le rispetta senza gravare come sempre sui commercianti che hanno già tanti problemi e oltre a quello di dover semplicemente lavorare dovrebbero anche poi occuparsi di verificare dove uno vada in bagno o dove uno vada a fare altri tipi di attività quindi con l'impegno del comune se dovesse passare questo tipo di atto di indirizzo anche a garantire una corretta efficace e drastica pulizia pulizia del del centro cittadino che veramente viene devastato in queste occasioni grazie consigliere Cabibbo consigliere De Bortoli prego ho ancora cominciato a posto bene allora caro sindaco questa questa deliberazione ha sollevato una frase una piccola frase che si chiama regole perché la nostra società complessa senza le regole diventa una cosa incredibile come molti paesi dove la gente non vive viene uccisa e tante altre cose perché se le regole non le facciamo non le decidiamo non le facciamo non le facciamo rispettare ognuno ognuno qui può fare quello che vuole ledere la libertà e la felicità del prossimo che ci sta vicino allora innanzitutto che Pordenone fosse una città che aveva necessità di essere un po' rivalutata è qualche anno che lo diciamo tant'è vero che abbiamo vogliato dire che Pordenone ha un problema di crescita anzi sta andando indietro basta guardarci un pattorno e pensavamo che questa amministrazione visto che sta andando verso la fine potesse presentare un progetto articolato per la città di Pordenone e non aspettare che quattro consiglieri comunali portassero avanti una cosa di questo genere che sembra che risolverà tutti i problemi di Pordenone cioè che la gente venrà tutta a Pordenone ascoltare la musica che tutti quelli che hanno attività commerciale diventano ricchi o potranno pagare l'affitto a fine mese non è così io aspettavo veramente che l'amministrazione comunale facesse un progetto completo anche come diceva mi sono piaciute molto i due interventi del consigliere Pedicini e quello di Cabibbo anche per abbiamo zone che da molti anni sono depresse e le abbiamo lì abbandonate magari poi avremo le campagne elettorali che diranno cosa vogliamo fare nel prossimo futuro di quelle aree là ma tanto sono lì ferme da tantissimi anni allora vedete il fatto che in questo paese parlo del paese non di Pordenone le regole non vengono fatte rispettare succede che la gente e voi lo sapete le stati si sta armando ad esempio la gente fa tutti gli impianti di allarme nelle case la gente a Pordenone è arrivata a lasciare a casa un familiare e andare fuori a Rosario loro poi rientrano e il familiare che era cava a mangiare l'anguria cioè la gente ha capito che le regole in questo paese vengono rispettate poco e vengono soprattutto punite non c'è la certezza di qualcuno che sbaglia e che viene punito questo è il fatto allora i cittadini di Pordenone quando si parla di fare musica per un'ora e mezza capiamo tutti che un'ora e mezza di musica alla fine settimana per un mese non sarà mica che cascherà il mondo e poi tutti i cittadini vanno in ferie al mare e succedono le stesse cose solo la passeggiata nelle zone balneari fa rumore eppure là si sopportano perché e qui no perché qui fan paura perché qui evidentemente proprio in questa scia dove qualcuno ognuno può fare quello che vuole noi ad esempio non possiamo far rispettare le cose che devono rispettare anche i nostri cittadini perché se questa amministrazione voleva fare questa cosa qua era semplice stilava un regolamento faceva fare la domanda ai locali dicendo vuoi fare musica? che attrezzature usi? che tipo di musica usi? le stazioni sono queste e ti facciamo i controlli ma non i controlli che arriva la macchina dei vigili che si vede da qua a 200 metri no? magari con lampeggiante magari in piena divisa e io abbasso la musica quando 10 cittadini hanno chiamato perché la musica è alta e poi quando li vedo ripartire la rialzo non solo ma poi il vigile arriva e se non ho capito male della stampa non può fare assolutamente nulla perché non è abilitato con uno strumento a misurare il decibel deve arrivare un'altra persona che non c'è perché nella destra tagliamento abbiamo solo una ispettore Arpa è solo lui deputato alla misurazione di decibel fuori programma o sbaglio perché se invece sono abitati anche i vigili allora il discorso cambia ma mi pare che i vigili non possono fare queste misurazioni e non possono fare in seduta stante come fa invece un ispettore delle scovasse perché oggi se tu butti giù un sacchettino che c'entra nel tuo indirizzo e dentro c'è la bolletta di plastica c'è un ispettore dei rifiuti che compila la multa immediatamente e te la metta nella cassettina della posta allora non si capisce perché un ispettore delle immondizie può fare questo e un vigile urbano non possa avere uno strumento che arriva lì magari non in divisa perché possiamo fare misura fa la sanzione la dà vedete che questo è quello che fermerebbe tutto allora la gente capirebbe un po' meglio invece il controllo lo sappiamo tutti e lo sanno anche i cittadini di Pordenone non lo faremo questo è che crea la preoccupazione non lo faremo e ognuno non guardiamo se le case sono orientate verso l'interno della galleria del locale o sono orientate all'esterno io che imputo la colpa al sindaco a tutti perché non guadagno aumento la musica perché è vicino penso che quella che sarà più bella attiro clienti e verrà la bolgia come diceva il mio amico Cabibbo che Piazza diventa una grigliata senza nessuna norma dei NAS perché poi anche quello che rischia di arrivare il NAS all'interno del locale che è storico a Pordenone di fare la multa perché l'HCCP ha un grado in più però fuori si fa tutto senza nessuna tutela per i cittadini questo che la gente oggi vede e percepisce capito non è questa delibera che crea lo scompiglio per un'ora e mezza e fine settimana la gente è preoccupata perché ormai questo paese non fa più i controlli e chi tenta di fare i controlli non ha la potestà di sanzionare immediatamente questo è il fatto allora io non so se noi non possiamo qui il comune ampliare le funzioni dei nostri vigili urbani che deponiamo la più ampia fiducia per quello che fanno spendere qualche lida in più nel periodo estivo perché ci sia invece di una pattuglia due pattuglie accrescerebbero la sicurezza nella città anche per quanto riguarda i furti i ladri quelli che vengono qui a vedere Pordenone per poi magari delinquere perché vedono una polizia più ho visto prima un vigile entrare qui bello alto ben messo poi ci sarà una delibera che gli diamo il peperoncino perché qua noi siamo fatti così siamo garantisti il peperoncino gli diamo la rosetta invece se voi vedete anche le polizie slava la polizia croata o slovena hanno un cinturone che c'è di tutto anche la frusta di cinturone ma non serve perché la usano serve come deterrente e quando entro nel locale io l'ho visti non ci sono tante discussioni da fare e se sorpassi una striscia continua ti tengono in commissariato quattro ore e mezza cinque quattro ore e mezza cinque in commissariato non sulla strada dico lei venga in commissariato ti mettono in parcheggio tu stai lì e ti vengono a interrogarti dopo sei ore quando hanno voglia questa è la detterea perché se tu gli fai pagare uno cento euro e quello può partire nello stesso per il mare cosa gliene frega paga cento euro dopo due minuti c'è verso il mare puoi portare uno al commissariato sei ore e sarò lì in parcheggio per quella domenica vediamo cosa succede se sei tanto bravo io pago e vado come in piazza del settembre quando uno parcheggiava fuori delle strisce arrivavano lì parcheggiavano pagavano la sanzione e c'era piazza del settembre piena di macchine allora io preferirei che questa amministrazione facesse un progetto per la città abbastanza più ampio perché potrebbe essere anche l'uso del fiume perché vediamo che cosa si muove col volontariato tirasse non so facesse un regolamento come si è detto con anche tutte tutte le regole che devono essere rispettate da chi vuole fare musica che devono essere rispettate da chi poi fa fa quello che diceva Cabibbo in buona sostanza no? perché negli altri paesi se non basta che tu se ti prendono che stai vomitando perché si è ubriacato ti portano in ospedale e ti fanno la lavanda gastrica basta no no io San Pietroburgo che succede ero lì allora vedete che qualcuno ci pensa un po' no? ci pensa un po' su questo perché non è possibile perché uno non guida la macchina si possa permettere di bere fino all'inverosimile e diventa anche un costo per la società perché poi quando uno fa questo diventa un costo di tutti perché poi non pensiamo che quando questi signori vanno nelle strutture sanitarie li paga Gesù li paghiamo tutti noi questi servizi qua su questo non ci piove sopra io per cui dico io non sono contrario per la io sono contrario solo se la musica non è regolamentata non come hanno scritto i consiglieri qua che bisogna coinvolgere le scuole ora io non so quelle scuole parlate universitarie perché fino all'una e mezza di notte fino all'una di notte coinvolgere le scuole non so magari li portiamo in questi locali dove si bevono i sciottini non so cosa facciamo con le scuole gli facciamo suonare la fisarmonica a 11 e mezza non so coinvolgere le scuole non ho ancora capito cosa vogliono fargli fare perché di giorno possono suonare un ruppetto di ragazzi possono suonare il basso la chitarra non c'è penso che non ci sono problemi ma il problema diventa dopo le 11 e mezza mi pare dunque le coinvolgere le scuole dopo le 11 e mezza non so a che senso abbia su questo poi io dico solo una cosa se qualcuno vuole abbiamo Pordenone per fortuna che ultimamente abbiamo qualche sala da ballo qualche posto musicale molto importante ben arredato anche qua vicino nella Ponte Bana una volta noi siamo di giovani tutti vi ricordate? dove si andava? c'erano le discoteche anche Pordenone c'era il Peozzo quindi si ballava mica in centro Pordenone non mi pare no? Pordenone si beveva lo spritz si beveva il drink si faceva l'aperitivo si andava a balla a giocare 3-7 no? ma non si faceva non si poteva vedere di ballare sotto i portici come succede adesso no? fino a mezzanotte l'uno e le due non succedeva questo discorso allora ci saranno dei posti deputati per bere come sono i bar perché potrebbe anche succedere e come ho visto come già ho visto e ve lo dico stanno arrivando dei furgoncini Ducato che vanno a parcheggio Marcolin aprono le due porte dietro ci sono tutti quanti sotto accetti esposti e intercettano le persone e dicono signor questo viene dalla Calabria questo viene vuole comprare prima che arrivano in centro state attenti a questo perché c'è già questo fenomeno senza nessun controllo sanitario imbutigliati invasettati senza scadenze però già cominciate la cosa potrà succedere allora che uno porta una cassa di birra come succede ormai è già successo anche a Milano perché noi siamo già indietro si mette in presa del tempo con tre casse di birra e vende la birra a due euro quando il bar invece la vende a quattro euro perché quello la vende senza scontrino fiscale senza niente non so se c'è un regolamento poi ecco perché le regole sono importanti perché se le regole non ci sono non facciamo rispettare ciò che la società civile dice che si può fare e non si può fare qualsiasi cosa in città si possa fare uno chiede di fare la gente è spaventata la gente si spaventa su questo si spaventa allora amministrazione prendete come spunto questa delibera che i colleghi consiglieri hanno voluto proporre trovatevi con i vostri uffici e con la struttura dei vigili urbani considerate se questi signori che deponiamo molta fiducia per tante cose e gli facciamo fare tante cose tante volte senza neanche tutele dovute a queste persone che sono come noi persone fisiche chiedete a loro se darvi qualche suggerimento e chiedete a chi ha il potere se possiamo attrezzare queste persone non solo del peperoncino ma anche di alcuni strumenti tecnologici che sono fondamentali per poter sanzionare immediatamente chi non rispetta le regole il velo la misuratore di velocità la misuratore alcolemico il misuratore del problema acustico perché non capisco questi possono fare tu possono misurarti la velocità ritirarti la patente poi se devono misurare i decibel non possono farlo devono chiamare l'arpa devono chiamare l'arpa capite com'è il discorso allora dico tanto vale fare anche questa cosa qua potenziate le pattuglie la musica che non è mezza vedete che se questo passa gli esercenti o chi vuole fare musica o anche altre regole verranno molto più rispettate e la gente di Pordenone sarà molto più tranquilla grazie grazie consigliere De Bortoli consigliere Dalmas prego signor sindaco come sta bene no perché mi pare ci fosse questa sera una concomitante iniziativa delle categorie economiche io sono andato credo fosse il destino del mondo doveva individuare la strada così dicevano i giornali quindi pensavo che ci raccontasse qualcosa inizio seduta del consiglio comunale come normalmente lei fa con grande garbo devo dire dicendoci cosa sta accadendo nella città nelle sue varie articolazioni e questo conferma così una prima considerazione del carattere scandaloso di questa poesis una citazione di Cacciari che non cede niente il carattere scandaloso dell'argomentare che abbiamo noi rispetto scandaloso in quanto disarticolato cioè questa è una città dove in consiglio comunale impieghiamo non so quante sedute del consiglio io la precedente non c'ero e non ho potuto ascoltare l'esposizione di questa iniziativa trasversale vedo di consiglieri collega Tomasello prima battuta e quindi non ho al di là insomma delle premesse che leggo che mi pare anche richiamate da quei 60 cittadini che dicono vabbè ma insomma voi cosa volete fare realmente per questo io mi chiedevo prima ma lei cosa pensa perché non è secondario quello che pensa un sindaco e non è secondo me che sia il consiglio comunale tenuto a decidere per giornate intere se la musica si deve fare si deve chiudere alle 11 e mezza piuttosto che a mezzanotte lei è il sindaco io sono per un sindaco podestà che decide liberamente e poi ogni 5 anni se è bravo riesce anche a cambiare le leggi per cui non mette sempre le elezioni ogni 5 anni ogni 5 anni si fa vedete è come ieri Vavrinca ha vinto a Parigi il problema è più bello il rovescio a due mani o il rovescio a una mano tu caro collega di tennis è più bello il rovescio a due mani o il rovescio a una mano il rovescio a una mano non è efficace quanto il rovescio a due mani perché Vavrinca ieri abbia dimostrato il contrario ma il gesto estetico di Vavrinca è notevolmente cioè nel rovescio a una mano superiore rispetto a quello che è l'efficacia cioè ai tempi moderni l'occidente dice se però l'altro è più efficace prendo quello che è più efficace cioè il rovescio a due mani quindi nella moderna paideia della fisicità che si insegna nella scuola di tennis ai giovani si insegna a fare il rovescio a due mani mi chiedo mi chiedo quale rovescio stiamo insegnando noi è per questo il sindaco che è il primo cittadino persona che ha garbo persona che se io fossi nella maggioranza di governo di questo comune non mi sognerei mai di cambiare non mi sognerei mai di cambiare perché perché oggi quel tratto umano è una caratteristica importante guardate è importante non è importante che lei sia efficace non è importante che lei sia efficace è importante invece quello che si può insegnare anche da un gesto molto semplice talvolta dalle buone maniere dall'educazione che abbiamo perso che i nostri giovani hanno perso ecco questo il tema che i nostri giovani hanno perso perché evidentemente forse hanno hanno esempi sbagliati forse non sono seguiti a tutti io non lo so è complicato anche essere giovani non solo diventare vecchi ma anche ma anche essere giovani ed è complicato immaginare che il venerdì sera tu non possa fare quelle come si chiama happy hour quelle cose lì insomma quello che tutti i giovani fanno che in tutte le città d'Italia succede in tutte le città d'Europa nel mondo una trasgressione poco trasgressiva contraddittoria però reale c'è e tutto ciò che è reale è razionale sappiamo cioè è attività che si invera perché si fa perché c'è perché è lavoro anche quello è lavoro anche lì c'è un lavorio nel giovane che pensa di affidare nel venerdì sera tutte le sue speranze di vita magari rispetto ad una fidanzata piuttosto che al compagno di università dice guarda io sono più bravo di te bevo tre vodka in più e magari giro per la città e si sfida in questi termini poi si ubriacano in modo devastante e gli effetti li conosciamo e il punto è un altro il punto non è che il consiglio comunale deve decidere la mezz'ora in più o in meno il punto è capire perché succedono queste cose perché ci sono ma ci sono dovunque e probabilmente rispetto a questo noi siamo molto impreparati perché individuiamo gli effetti del fenomeno ma non conosciamo la causa il livello dell'argomentare che ho sentito è difficile perché è imbarazzante perché qualcuno dice vabbè la polizia non può intervenire dopo l'11.30 la polizia locale tutti i problemi complessi insomma gestione amministrativa di quello che è chi vive nel centro è chiaro a mezzanotte non può dormire se c'è una musica assordante e non voglio entrare io mi sono perso l'intervento di Franco quando distinto ho cercato di distinguere cosa che neanche sto causa pensava di fare ciò che è musica ciò che è rumore me lo sono perso ma guardate che è e lui ha citato i call play per qualcuno sono un ansiolitico ma la questione è perché il nostro regolamento di igiene noi discutiamo dell'orario di apertura dei negozi per modificare il regolamento di igiene cioè il regolamento di igiene e l'articolo 38 e l'articolo 39 dice ciò che è rumore e ciò che non lo è la sinfonia sulla quarta corda di Bach non è rumore evidentemente forse altri tipi di musica ma anche questo opinabile il vero il giusto il bello sono concetti che insomma sui quali sono le anime belle noi che non siamo anime belle perché abbiamo troppi peccati da espiare però ci arrendiamo rispetto a quello che invece è il vero problema è una città che è quello che è è quello che è vuole essere il lunedì sera è un deserto c'è solo il capitano drogo che gira non c'è nessuno è così durante la settimana qualcosa si vede il mercoledì sera poi verso la fine eppure questo problema come si Tomasello tu che stai nella maggioranza nella stanza dei bottoni o ai margini della stanza dei bottoni ci vuoi dire quale bottone volete pigiare perché non avete il coraggio di dire che non c'è che non c'è questa soluzione e purtroppo invece non solo il dibattito di questo consiglio comunale è ciò che è perché sulle cose come il piano regolatore chiedevo prima a Gianelli ma dove sta il piano regolatore lei verrà a dirci prima o poi che cosa volete fare tra un po' finisce la legislatura avete iniziato la legislatura con grande enfasi su questa cosa non sappiamo più niente salvo gli addetti lavori la risparmio sull'ospedale sindaco stia tranquillo la risparmio sulle cose sulle cose nelle quali l'amministrazione dovrebbe farsi sentire io non la vedo non la sento non l'ho mai sentita e come gli industriali che si sono dati appuntamento in un luogo qui vicino immaginando di disegnare un futuro anzi chiedendo Bonomi a Bonomi no cosa possiamo fare Bonomi gli dice ma prendete atto di quello che siete da dove partite prendete atto di quello che siete però stasera verrà consegnata a Bolzonello cioè non il primo Interpares il rappresentante della regione Friorezza Giulia Pordenone cioè il vice della Seracchiani e qui la genialità sta in questo cioè io do la carta di Pordenone cioè lo Stato direbbe Lopardi sul costume degli italiani no di Pordenone lo consegnerò questo annunciava il gazzettino non so se se sarò smentito a Bolzonello che è il vice del governatore cioè il vice della Seracchiani che è anche il vice di Renzi probabilmente avrebbero dovuto consegnarlo direttamente a Zaia ed è questa la riflessione che dobbiamo fare ma non perché Zaia mi piaccia perché siamo alla fine di quel percorso perché quello che sta emergendo in questi giorni è assolutamente chiaro il mondo udinese pensa alla grande Udine e noi resteremo una terra di conquista che quelli cominceranno e la Zanussi e l'Eletrolux e dove è andata scusi lei è diventato sindaco giorno dopo ci ha detto che avrebbe portato Google qui da noi io ancora Google non l'ho vista se non il mio computer di casa d'ufficio come tutti gli altri e queste sono le cose che avete detto queste sono le cose che avete detto ecco allora è veramente chiudo non so se per citare un autore che in politica non ha avuto grande successo nella letteratura discreto Thomas Mann nelle sue considerazioni di un impolitico e un amico pochi giorni fa mi diceva io francamente qualcosa avevo letto ma mi è venuto in mente questo parallelo con quello che stiamo vivendo vivendo noi dove al Verdi è andata in scena se così si può dire una quello che è il pensiero di Baumann cioè sulla localizzazione globale più locale il territorio il territorio che si organizza molto più efficace la grande bellezza di Sorrentino quando alla fine dice ma cosa faccio ma perché tu non scrivi un altro libro non lo scrivo perché non ho l'ispirazione non è vero devi ripartire da cosa devi ripartire da quello che sei da te stesso devi ripartire dal tuo territorio devi ripartire dai tuoi legami e questi legami voi li rappresentate solo nel potere che avete non li rappresentate nella città perché nessuno li sente ecco il parallelo è questo l'altro quello che citavo prima sulle considerazioni di un politico diceva preferisco la culture alla civilization preferisco cioè la mia aimat la mia patria piccola che sia per questo poi è stato anche così additato come una picco una 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 sorta di anticipazione di quello che sarebbe stato il pensiero di una destra che ha distrutto l'Europa e il mondo però probabilmente noi dovremmo semplicemente pensare che il nostro spazio è lì dentro ecco perché la delibera come quella di oggi caro Tomasello che mi stai pure simpatico e devo dirti sì tu la fai la fai da capogruppo del PD cioè del partito di maggioranza relativa in Italia in questo comune per dirci che la musica va portata dalle 11 a mezzanotte e mezzo non so a luna di notte a mezzanotte chiudiamo tutto facciamo la figura perché finisce anche il giorno un giorno finisce a mezzanotte poi arriva Gigi Marzullo e quindi chi vuole se sta a casa vede queste cose no ho finito ho finito e mi sarei aspettato dal capogruppo del PD che in verso la fine di questa legislatura riuscisse a produrre qualcosa di più consistente grazie grazie consigliere consigliere Passoni prego grazie presidente colleghi e colleghe signor sindaco ma io sono intervenuto in commissione quando si è discussa di questa mozione e sono partito dal concetto che qualsiasi patto di comunità che si intende in qualche modo implementare con questa proposta sperimentare che mi trova d'accordo è importante che si sviluppi nel rispetto di tutti e quindi c'è questa anche grande preoccupazione accanto all'entusiasmo di un tentativo sperimentale di rivitalizzare in qualche modo la città che come dice giustamente Dalmas non è che sia così semplice però tutti i tentativi magari anche quelli trasversali come in questo caso è giusto provarli e quindi noi ci apprestiamo diciamo ad appoggiare questa iniziativa però con la consapevolezza che è altrettanto importante che non si creino le situazioni di contrasto con i cittadini residenti perché sarebbe un fatto negativo per cui è molto importante che una fetta di responsabilità la più importante se la prendono tutti quei pubblici esercizi o esercenti che daranno vita a queste iniziative diciamo così notturne io penso che questo sia uno degli aspetti importanti che sono stati richiamati anche nell'emendamento che mi trova a Concorde quello proposto dalla Daniello Pietropoli e Pedicini dal dottor Cermet e credo anche del Ben se non sbaglio lo cicero ecco scusate che non ho letto bene le firme perché ribadiscono il concetto di ok andiamo avanti su questa proposta però nello stesso tempo cerchiamo di fare in modo che comunque non si mettano dei disagi e infatti su questa è nata anche quella petizione che ci ha dato conto prima il nostro sindaco 60 firme non sono tante però non è il numero ma è comunque un segnale di come dire attenzione per cui siccome ci teniamo tutti che queste iniziative possono partire col piede giusto io mi auguro che non sarà un problema di orari non sarà un problema tutto il resto importante partire fare questa sperimentazione e mettere attorno a un tavolo tutti per cercare di poi che questa cosa prenda piede che sia utile alla città effettivamente perché questo è nell'interesse dei proponenti e credo di tutto il consiglio comunale per cui mi aspetto questo tipo di valutazione complessiva io non voglio allungarmi perché insomma mi pare che la discussione è stata lunga e penso che adesso la città aspetti che ci sia questa sperimentazione sempre però con questo rispetto dovuto ai residenti magari una certa ora in poi insomma senza amplificazione come è stato richiamato ampiamente sia nella mozione che anche nell'emendamento che richiamavo prima per cui io mi aspetto anche il suo pensiero che non ha voluto esprimere prima devo dire che una cosa mi ha un po' sorpreso ma neanche molto però è giusto che glielo dica cioè che lei al tavolo diciamo di discussione con gli esercenti le associazioni e quant'altro abbia delegato l'assessore all'urbanistica ai lavori pubblici piuttosto che quello al commercio e alla cultura perché questo progetto forse rientrava più in questo ambito ma siccome abbiamo fiducia degli assessori che sono stati scelti in questo compito delicato e ingrato noi ci auguriamo che svolgano fino in fondo il loro diciamo incarico proprio per arrivare a quel concetto di patto di comunità che a noi interessa molto con l'occasione approfitto anche per ringraziare il sindaco dell'interessamento e dell'impegno che ha messo per il mantenimento dell'ufficio postale di via Candiani molto importante per quella per quella area per quella parte della nostra comunità che non ha nient'altro diciamo da poter utilizzare per tutta una serie di servizi che vengono offerti quindi io spero che poi in futuro lei ha detto che non gli serve altri mandati ma se occorreranno sono convinto che questa aula come ha fatto anche in passato saprà fare anche una mozione all'unanimità come è già successo e il mio amico Pedicini collega ne sa qualcosa questo è successo qualche anno fa sempre per ambito di un servizio postale da in qualche modo preservare in quel caso purtroppo non è successo ma abbiamo ottenuto qualche risultato però da una mozione votata all'unanimità da questo consiglio comunale quindi se servirà in futuro siamo pronti anche a presentare questo tipo di documento per quanto riguarda il concetto che stasera noi siamo per approvare cioè questa mozione per rivitalizzare la città quindi sostanzialmente è un progetto che dovrà diventare strada facendo come noi ci auguriamo un progetto culturale di apertura della città e quindi di miglioramento di possibilità di opportunità io mi auguro che anche questa cosa venga valutata per altre domande per altre circostanze che sono state presentate da molto tempo di cui ho anche parlato a lei personalmente signor sindaco io mi auguro che abbiano risposte in tempi brevi perché in entrambi i casi si parla di posti di lavoro di occupazione noi non dobbiamo tralasciare nessuno e anzi dobbiamo non solo creare opportunità come si fa questa sera un tentativo diciamo di ulteriori opportunità di lavoro di attività ma anche cercare di preservare quelle istituzioni sacre e meno sacre che danno lavoro a tante persone ecco noi non dobbiamo trascurare alcunché in questa fase così delicata della nostra comunità grazie grazie consigliere Passoni consigliere Freschi prego grazie grazie presidente e cerco di aggiungere così qualche punto alle varie riflessioni che sono emerse dal dibattito in consiglio allora noi nel momento in cui abbiamo sottoscritto questo atto di indirizzo l'abbiamo sottoscritto sulla base di tre di tre punti ed erano in sintesi la sperimentazione la salvaguardia dei diritti di tutti e i principi che partivano da una frase del sindaco dove si parlava di patto di comunità questi sono stati gli elementi che ci hanno in qualche modo fatto avvicinare a una posizione trasversale trasversale dal punto di vista politico e comune dal punto di vista generazionale nel senso che firmata da quattro magari Fausto un po' meno giovane degli altri ma da quattro consiglieri da quattro consiglieri da quattro consiglieri che in qualche modo pensiamo possono anche interpretare il mondo giovanile per cui che possono essere anche portatori di idee e anche di desideri che nascono da una fetta della città che in qualche modo anche rappresentata in consiglio comunale attraverso loro ma è proprio alla luce di questo che cercherei di sviluppare un ragionamento nel momento in cui si crea un patto di comunità significa che si vogliono mettere insieme le generazioni dal punto di vista dei desideri dei desiderate ma anche dal punto di vista del rispetto delle regole allora questa deliberazione se la leggiamo attentamente racchiude in sé un po' tutte queste preoccupazioni e queste aspettative e mi pare che questa sera più volte sia stato ripreso un fatto cioè la necessità di coniugare situazioni diverse coniugare l'esigenza del commercio da una parte con l'esigenza dell'aggregazione dall'altra con la diffusione del patrimonio musicale l'altro aspetto è riuscire a coniugare la pulizia della città la sicurezza e rendere il centro storico in qualche modo più piacevole ecco mi pare che questi siano tutti elementi che in qualche modo la delibera anche con suggerimenti venuti dagli emendamenti possa in qualche modo racchiudere in sé tutti questi aspetti però l'aspetto che io ritengo fondamentale e di base è il fatto che sia una sperimentazione ed una sperimentazione significa che non è Vangelo cioè non è una cosa che non si modifica che rimane inalterata è una cosa che ha un principio che parte da un principio che la si sottopone in qualche modo ai cittadini e che saranno i cittadini stessi sia da l'una che dall'altra parte in qualche modo a dare un input una risposta un indirizzo se la cosa può proseguire in quel modo oppure in un altro e su questo bisogna essere attenti è chiaro che nel momento in cui si fa una sperimentazione si parte col principio che questa possa riuscire possa riuscire si devono mettere in atto tutti quegli accorgimenti e quelle attenzioni per cui da un lato si vada a realizzare un progetto e dall'altro non si vada a scardinare un sistema sociale di relazioni e di rapporti che deve essere salvaguardato ecco mi pare che gli elementi ci siano creare maggior dinamicità in città dare delle regole che siano in qualche modo certe mi è piaciuto l'intervento il passaggio che ha fatto non lo vedo il consigliere Pedicini quando ha riportato l'esempio di Roma dove si nei locali è normale suonare fino a ora tarda ma non mi pare che questo crei disturbo ai residenti se fatto con criterio e con attenzione per cui anche questi sono elementi che vanno in qualche modo coniugati da altre realtà da altre sperimentazioni fatte da altre realtà esistenti ci sono città universitarie che fanno il mercoledì Patavino oppure Urbino sto pensando cose di questo genere ma sanno in qualche modo dare delle regole in modo tale che non si creino delle difficoltà capiamo che non tutto è semplice non tutto è facile ma proprio il fatto che sia una sperimentazione da tutti gli elementi per poter in qualche modo intervenire io lo interpreto come la creazione di un'opportunità e su questa opportunità lavoriamoci lavoriamoci tutti in maniera molto attenta direi non di parte ma che sia la parte della città a salvaguardare la città in tutte le sue le sue espressioni ci va molto del buon senso in mezzo a tutto questo buon senso da tutte le parti e qui spero che i due assessori chiamati a tra virgolette vigilare su questo che mi pare siano persone serie e ragionevoli possono metterci anche del loro in questa in questa sperimentazione nel senso di dare suggerimenti di dare indicazioni e anche di dare delle regole per quanto per quanto riguarda i luoghi anche io sono convinto che non è solo il centro il luogo in cui poter fare queste sperimentazioni ma sono anche convinto che all'interno del centro ci siano dei luoghi che non sono assolutamente utilizzati e che potrebbe essere l'occasione questa anche per rivitalizzare degli spazi che in qualche modo sono così lasciati un po' un po' in parte un po' in abbandono penso ad esempio una parte che crea un dibattito che ha sempre creato un dibattito nella nostra città da quando è sorta è la zona del centro direzionale o del più comunemente detto Bronx sto pensando che la piazzetta del portello è un luogo che potrebbe essere tranquillamente sfruttato è un luogo che non è a ridosso di abitazioni è un luogo che ha uno spazio ampio e che in qualche maniera dal punto di vista musicale potrebbe essere sfruttato perché non pensiamo anche di rivitalizzare alcuni spazi che in qualche maniera sono lasciati lì a se stessi questo è uno strumento che ci permette anche di dire facciamo delle proposte come amministrazione pensiamo che magari possiamo andare incontro a dei gruppi musicali giovanili chiaramente nel rispetto delle regole chiaramente nel rispetto delle regole ma utilizzando anche dei spazi degli spazi che sono centrali ma nello stesso tempo sono periferici perché molti considerano il centro direzionale una periferia della città e sotto questo nome ci vanno parecchie declinazioni ok ecco per cui per cui noi su questa delibera diciamo che riteniamo che debba andare avanti ma debba andare avanti soprattutto per il fatto che è una delibera sperimentale cioè che facciamo un esperimento è chiaro che questo significa che dobbiamo ritornare tra qualche mese in consiglio e riparlarci risentire cosa è stato sperimentato quali dati abbiamo raccolto e quale possibilità ci sono di continuare in un modo piuttosto che in un altro ecco mi pare che questi siano i concetti che in qualche modo vanno espressi nel rispetto delle regole con lo spirito di sperimentazione raccogliendo gli elementi della sperimentazione per poi rivederli insieme e capire se questa è la strada oppure ce ne possono essere altre perché nel frattempo si possono raccogliere anche altre motivazioni quanto hanno detto i due assessori riguardo agli incontri fatti anche detto dal sindaco mi pare che in qualche modo vada in questa direzione cioè tutti hanno cercato in quegli incontri al di là di qualche immagino o posizione che possa essere più o meno marcata ma hanno cercato di trovare la via della ragionevolezza e del buon senso e penso che questa sia la strada principale che dovremmo seguire grazie consigliere Freschi consigliere Franchin prego grazie sì grazie signor presidente signor sindaco io io non dirò nulla perché è stato detto tutto poi Roberto Freschi ha praticamente in qualche modo detto quello che volevo dire io però c'è una cosa che mi sembra che forse abbiamo sottovalutato cioè questa delibera non è una delibera sulla musica sulla città sui bar sui negozi è anche questo ma è una delibera che secondo me ci può offrire l'opportunità per pensare altre cose per pensare che il problema che Giannelli ha posto sul fatto che ha posto l'altra volta che i nostri ragazzi sono quelli che dopo alla fine vomitano urinano spaccano le bottiglie sono ragazzi che hanno problemi di non so potrei dire di una dipendenza e vi ricordo che il Mario Negri che è l'istituto più importante in Italia di farmacologia ha dimostrato solo analizzando le acque dei fiumi del nord Italia che ogni giorno si consumano 40.000 dosi di cocaina in questa zona e che il 20% dei nostri ragazzi sotto i 18 anni fanno uso continuato di alcol allora se questo è il problema cioè se il vero problema è che dalle 11.30 all'una di notte il problema è gestire la dipendenza allora ben venga quello che ha detto Roberto Freschi cioè che il patto di cittadinanza si deve fare carico del problema cioè che una comunità si deve far carico del problema di gestire i propri giovani che è possibile pensare come dice Cabibo che noi possiamo immaginare delle riserve in cui queste cose si spendono è possibile pensare come in Inghilterra che i ragazzi dalle 11 alle 2 di notte entrano nei pub ne escono ubriachi se solo si permettono di fare qualcosa sono rincorsi dalla polizia chiunque sia andato in Inghilterra ma è una soluzione che vogliamo io no io non la voglio io voglio una comunità che si fa carico del problema e il problema sono i ragazzi che hanno dai 14 ai 30 anni che sono quelli che hanno per 20 euro una donna di cocaina e per molto meno si possono ubriacare e che per molto meno possono rendere una città invivibile in quelle due ore di cui stiamo parlando da due a me interessa pochissimo sinceramente della musica dalle 11 al mezzanotte all'una interessa quasi nulla è un buon'occasione benissimo ma la delibera apre un problema molto più interessante che è quanto una comunità si fa carico di un problema e il problema è la gestione in questo modo dell'eccesso di consumo che sia droga alcol incapacità di civiltà dentro una comunità questo è il problema per questo vale la pena spendere del tempo su questa cosa ed è più importante di molte altre per cui io non sono d'accordo che questa è una delibera di poco peso e una delibera di peso se ha questo taglio se il taglio è quindi un coinvolgimento di tutti io non ho sentito parlare dei giovani in questa cosa cioè si è dimostrato che l'autoaiuto è quello che funziona di più che i gruppi di giovani sulle strade l'autoaiuto sulla strada è quello che fa ridurre il tasso di consumo di alcol di droga nelle giornate del venerdì e del sabato notte quindi io chiederei al nostro sindaco di coinvolgere anche chiunque non so se ci sono associazioni di giovani che possono fare questo ma sicuramente il CERT ci può aiutare in questo perché il problema è questo non è se un negozio vende più scarpe o meno scarpe per me il problema è se questa città è in grado di pensare a un sistema inglobante per tutto ciò che conduce un ragazzo ad andare per strade difficili da ritornare grazie grazie consigliere Franchini consigliere Daniello prego sì grazie presidente allora sì volevo semplicemente illustrare molto in via generale l'emendamento che abbiamo presentato insieme come con il dottor Charmè lo Cicero e il lo Cicero no? sì lo Pipero lo Cicero è un altro e il e Pedicini nel senso che allora innanzitutto parto da un presupposto che perché io ho accolto positivamente questa delibera perché appunto trattasi come diceva Freschi il collega Freschi di sperimentazione e quindi fra qualche tempo potremmo ritrovarci e rivedere se funziona o gli attori seduti al tavolo possono fare un momento di sintesi per verificare che cosa è successo e che cosa non è successo la intravedo come un'opportunità un'opportunità per la città in questo momento perché chiaramente si sta parlando di un momento particolare di caldo dove la gente esce più facilmente eccetera di opportunità per i ragazzi di opportunità per le nostre associazioni musicali che ci sono nel territorio e sono tantissime di capacità di valorizzazione delle capacità di questi ragazzi che c'è ma soprattutto del progetto ambizioso che sta secondo me dietro questa delibera che è il progetto buttato lì sui giornali dal sindaco ma che avevo già chiesto al sindaco di riprendere in mano con forza questo concetto che è il concetto di comunità che è una comunità io non vedo tutta questa disgrazia a Pordenone insomma io vedo soprattutto una città molto abbastanza pulita dai non molto vedo delle persone civili e quindi la comunità sottende proprio a questi diritti doveri di star bene tutti e di non oltreprassare i limiti delle proprie libertà quindi rispetto dell'altra persona e tolleranza anche no dieci minuti di di musica in più insomma non non fa cascare il cielo è vero che non possiamo secondo me è da cogliere anche l'emendamento della collega Piccin oltre le 24 non oltre le 24 perché non non nel concetto di comunità io vedo che c'è anche il significato e il senso profondo dell'autocontrollo però dovesse esserci qualche sgarro da parte di qualcuno una telefonata chiaramente ai vigili ci sarà e verrà effettuata ma come sono sempre accorsi i vigili delle nostre forze dell'ordine siccome loro non possono sforare luna di notte credo che sia corretto insomma accogliere fino alle 24 di altro di altro non devo dire se non che appunto la città ha bisogno di questo ma nell'intera città non solo il centro cittadino perché anche alcune zone non solo il Bronx insomma ma penso a Viale Grigoletti no che ci può essere un momento in cui alcune c'è un bar che fa musica e che tiene musica in tutta su tutta l'estate ma penso anche ad altre zone per sia per rivitalizzare la città sia per dare un senso e sia per cogliere anche aspetti di questa città che sono magari misconosciuti valorizzandoli e dando appunto il corretto uso di alcuni posti che magari possono valorizzare con essere valorizzati con la musica insisto con il dire che il concetto di comunità è anche un concetto di oltre che star bene all'interno della propria città ma anche di tolleranza e quindi siccome tutto sommato Pordenone io la vivo come città tollerante credo che una delibera un atto di indirizzo di questo di questo genero non vada ad intaccare i principi solidi che ci sono appunto in questa città il nostro i nostri emendamenti era appunto quello di ampliare non solo concentrare il tutto nel centro città non solo per le giovani generazioni ma perché anche il meno giovane e mi metto dentro anch'io master vero abbiamo la stessa classe quindi possiamo anche essere considerati meno giovani possiamo fare una passeggiata e sentirci bene quando ci fermiamo a sentire della musica ma vorrei anche sottolineare che tutto questo non vada ad incidere appunto aggiungere il punto 6 sui costi e gli oneri a carico del comune cioè questo deve essere un'iniziativa appunto della comunità fatta per la comunità ma che non vada ad intaccare i costi del comune stesso ecco questo era il senso del nostro emendamento che abbiamo firmato in 5 e ringrazio grazie consigliere Daniello consigliere Piccin grazie presidente signor sindaco colleghi ma io credo che quando è stato proposto questa iniziativa quando si è intrapresa questa iniziativa da parte di alcuni consiglieri in modo trasversale come abbiamo visto forse non ci si immaginava o forse loro non si immaginavano una discussione così lunga e articolata ed una serie di problematiche o comunque di osservazioni che sono scaturite da questo tipo di ragionamento i colleghi hanno toccato credo tutti i punti tanti certamente elementi di ragionamento io volevo soffermarmi sulle per cercare di capire poi magari nel secondo intervento o diversamente più avanti nel dibattito chi ha proposto mi spiegherà ancora meglio non credo di essere così ottusa dal non capire che l'obiettivo nobile di questa di questo intervento diciamo così deliberativo è quello di cercare di in qualche modo aiutare la città a rivitalizzare seppur nel cercare di mantenere il giusto equilibrio le regole bla 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 allora io mi chiedo mi faccio delle domande e dico questa iniziativa partita dai colleghi ma è lo stesso anche se fosse partita dall'amministrazione no dico ha avuto una richiesta specifica da parte di qualcuno ci sono le poi abbiamo visto strada facendo ci sono stati dei tavoli ci hanno illustrato gli assessori le associazioni di categoria che hanno manifestato questa necessità ci sono una serie di associazioni di giovani un gruppo di portatori di interessi qualcuno che ha detto noi vorremmo ci sentiamo troppo come dire stretti all'interno di quel limite di orario delle 23 e 30 per cui vogliamo che la musica venga fatta dove mi sembra di capire dove si ritiene qui no in tutta la città e bisogna fare una sperimentazione fino a luna io non ho compreso fino in fondo questo a questo si sommano dei dubbi che mi sorgono facendo riferimento alla situazione dei residenti e il fatto che ci sia una raccolta di firme che pur sono come dire su 52.000 abitanti siamo a Pordenone 60 firme e fanno riferimento ad alcune persone che hanno seguito nello specifico questo argomento e abitano in centro oltre ad una associazione che mi sembra di capire si sia mossa o comunque abbia un ragionamento un approccio di tipo negativo rispetto a questo dicevo che il fatto che siano così poche non significa che non siano importanti soprattutto se pensiamo che il tutto si è svolto in breve tempo allora senza fare facili enfatizzazioni pro o contro io semplicemente mi come dire mi soffermo sul ragionamento innanzitutto quali valutazioni erano state fatte all'epoca mi pare che il regolamento parlavo prima con il collega Franchin non mi sono ricordata di andare a vedere che data ha ma mi sembra sia abbastanza recente quello 2006 2007 2008 cosa siamo la fine mandato diceva fine dell'altro mandato quindi poteva essere anche 2000 insomma sì comunque poco importa sarà anche cambiato il mondo da allora per certi aspetti ma mi interessava come dire evidenziare qual era la razio di allora nel fissare le 23 e 30 credo fosse quella di garantire un giusto equilibrio ed una tranquillità ai residenti aggiungo un ragionamento a questo ovvero noi qui i proponenti qui e l'amministrazione stabilisce fino all'una allora io dico se ci sono comuni lo ricordava prima il collega Cabibo io ne evidenzio uno turistico Lignano Lignano nelle zone centrali e residenziali Lignano fa la musica all'aperto fino alle 23 pardon scusatemi fino alle 23 e 30 scusa 24 e 30 24 e 30 fino alle 0 30 allora se si comporta così un comune turistico se poi vado a vedere Gorizia la il coprifuoco non sarà turistico sarà più o meno bella di Pordenone anche quella un consorzio universitario la si chiude tutto alle 23 Udine non sono riuscita a trovare il dato non lo so Trieste fa diversamente se i locali danno come dire sul mare allora fino a luna se invece sono in centro città fino alle 24 solo il venerdì e il sabato la domenica no allora io non perché dobbiamo necessariamente emulare gli altri perché come dire ho portato questi dati solo per conoscenza io mi sono permessa di presentare un emendamento ovvero di se vogliamo fare una sperimentazione di allargare il termine fino alle 24 perché questo perché sono convinta che lo spazio di tempo di un'ora in più fino a luna non porterà dal punto di vista commerciale grandissimi introiti per coloro che faranno la musica all'aperto servirà semplicemente a far fare un giro in più agli avventori e nulla di che quindi io ritengo che questo possa essere un orario equilibrato a mio modesto parere e quindi propongo questo emendamento rispetto a tutti gli altri punti che sono stati sviluppati qui anche lo devoli guardate resta fermo il fatto vanno bene le proposte gli emendamenti resta fermo il fatto che i controlli e il rispetto delle regole è sicuramente uno sono sicuramente elementi insiti in ciascuno di noi credo che non ci siano controlli che tengano l'ARPA l'eccellente lavoro che possono fare le forze dell'ordine i nostri vigili urbani sicuramente ma credo che non si possa pensare almeno per quanto così mi posso immaginare io di impegnare le forze dell'ordine solo ed esclusivamente per questo tipo di controllo e perché noi decidiamo di come dire estendere oltremodo l'orario questo è il mio pensiero ci tenevo a lasciarlo a verbale perché credo che comunque la libertà è di ciascuno di noi termini dove inizia quella degli altri quindi credo che anche coloro che hanno manifestato qualche prepressità debbano avere voce grazie grazie consigliere Piccini consigliere Bevilacqua prego ringrazio presidente ormai è stato detto già tutto probabilmente non ho ancora capito come prenotarmi per fare l'intervento comunque detto questo condivido no perché mi ero prenotata ancora all'inizio però sì sì ho capito grazie assessore Romor la ringrazio allora condivido sicuramente la sperimentazione della delibera poiché si tratta di non fomentare una movida in centro città né tale dovrà esserlo quindi se la sperimentazione non funziona auspico che non si vada avanti detto questo ripeto ne condivido la delibera la proposta di delibera nella sua sperimentazione però proprio perché non dovrà essere una movida tra le varie domande ce n'è una che mi sono fatta un interrogativo e cioè mi sto chiedendo se a livello comunale a prescindere del piano regolatore scusate il piano regolatore del regolamento ovviamente esista a livello comunale un piano di classificazione acustica e mi sembra che non vi sia il piano di classificazione acustica mi pare che sia in fase di lavoro di stesura e allora che sia questa delibera questa proposta di delibera che colga l'opportunità di avviare velocemente la promulgazione e l'attuazione di questo piano dopodiché ritengo anche che anche dopo la fase di sperimentazione il ragionamento debba continuare la stessa progettualità debba continuare a 360 gradi quindi ovviamente ascoltando le stanze di tutti in primis i residenti perché sono sempre comunque cittadini e comunque i giovani e tutti i cittadini di Pordenone quindi giovani e non giovani e commercianti e in seconda battuta non sicuramente importante altrettanto il ragionamento a 360 gradi quindi anche cogliendo l'occasione per recuperare e lanciare parti dei famosi cosiddetti non luoghi parti della città che non vengono considerati lasciati c'è la percezione che possono essere percepiti come ghetti luoghi che potrebbero essere sicuramente rilanciati ospitando iniziative culturali e musicali ma anche artigianali perché no utilizzando formule a costo zero chilometri zero magari con associazioni o gruppi locali emergenti e ciò affugare a dubbio sull'uso strumentale eventuale della commercializzazione tra virgolette della delibera grazie grazie consigliere Bevilacqua consigliere Delben prego grazie più consiglieri sono intervenuti dicendo che era necessario fare dei riferimenti a delle regole e l'argomento di cui parliamo dalla volta scorsa è questa è praticamente l'articolo 37 del regolamento di igiene e in questo regolamento di igiene che ha la sua cogenza a prescindere dall'opinione di chiunque sono dette alcune cose e siccome ho il quarto d'ora di tempo anche qualche riga la leggo le manifestazioni e le attività rumorose vengono disciplinate dal sindaco sia per quanto riguarda gli orari che per le deroghe ai limiti fissati dalla normativa vigente in tema di rumore in base agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo dove assiede la manifestazione cioè la norma già prevede delle variabili sulle quali il sindaco può orientarsi le attività e le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo di cui è presente l'articolo devono chiudere devono chiedere una deroga al sindaco per il superamento dei limiti sonori imposti dalla normativa vigente questo è anche sopracomunale nell'atto autorizzativo in deroga il sindaco qualora necessario sentita l'ARPA impone le prescrizioni degli orari del caso in base anche agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo dove assiede la manifestazione nell'atto autorizzativo in deroga il sindaco può imporre anche limiti a tutte o a singole sorgenti sonore in modo da limitare gli effetti dell'abitato salto alcune cose se non quella che l'ultima normativa da utilizzare è un decreto ministeriale del 2007 quindi non antidiluviana e come chiosa finale i controlli tecnici e strumentali possono essere eseguiti anche dalla polizia municipale con l'ausilio di idone apparecchiatura quindi se serve per dire fare una elevazione audiometrica questa norma la consente perché ho parlato di questo intanto noi sappiamo che il sindaco ha più di una funzione è ufficiale di governo a prescindere dalla maggioranza che lo sostiene e autorità sanitaria locale a prescindere dalla maggioranza che sostiene e poi anche capo dell'amministrazione locale per i cambiamenti che si vogliono portare sul territorio ora io vedo in questa funzione il sindaco regolamento di igiene come autorità sanitaria locale e quindi lo vedo due punti monocratico cioè quello che ha in sé le competenze poter intervenire su questo argomento giusto per chiarire i termini di che cosa si possa fare d'altra parte è indifferente che vi siano sostegni di giunto di consiglio comunale perché ripeto lui è autonomo però alcuni consiglieri fra i quali Cabibbo e Passoni hanno citato su questo sul loro intervento la parolina mozione cioè vuoi mai che quello di cui stiamo discutendo possa essere una mozione allora vado a vedere anch'io le regole perché se fosse una mozione avrebbe dovuto avere regole comportamenti passaggi diversi ma poi anche se è questa una ricaduta importante allora noi sappiamo che col nostro regolamento vigente nel quale il sindaco non può dare deroghe sul nostro regolamento vigente è scritto che all'articolo 68 ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del consiglio quindi qui abbiamo avuto non uno ma più di uno che hanno fatto una proposta di deliberazione quindi aspetto definitorio positivo poi la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del sindaco o della giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare o di un problema di natura amministrativa se quello di cui parliamo fosse di natura amministrativa ha senso farlo se fosse solamente come autorità sentenale locale sarebbe fuori dalla nostra competenza poi la mozione è presentata per iscritto parlo di te adesso Dalmas Dalmas fra poco parlo di te è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione osservando l'ordine di cui l'articolo 23 abbiamo avuto su questo consiglio comunale delle proposte di mozione che avevano una scadenza di norma nella quale era importante poter avere una delibera del consiglio l'abbiamo messa in coda quello dell'articolo 23 allora io mi aspetto che sia comune a tutti questo comportamento e non e non chiamare con un altro nome quello che altro non è una mozione solo per bypassare il doveroso criterio cronologico nella quale andava andava discussa quindi su questi problemi dopodichè questo dice che il consiglio si pronuncia mediante il voto con 10 minuti però se è giusta questa interpretazione mi pare che sia quella giusta si dice che la mozione se la mozione è accolta dalla giunta non è messa in votazione salvo che non sia richiesto dai proponenti allora questo potrebbe essere un elemento utile nel quale dice il signor sindaco ha ascoltato molti interventi ha ascoltato che Pordenone vorrebbe essere fra l'altro una città sana non abbiamo ancora aderito alla retta di città sane ma vorrebbe esserlo Gianni Franchin ha messo con forza pesante parliamo di dipendenze parliamo di come si vive a Pordenone negli anni della crescita delle persone non le dipendenze di quello che è oltre 65 anni visto per parlare di me quindi è un problema importante Cabibo dice prima ma sappiamo quanto possa essere dannoso l'alcol che gira allora da contemperando a quello che può essere aspetti di deroghe del sindaco all'adattamento di orari di alcuni posti facciamo anche una contestuale azione che dice che la somministrazione di alcolici può arrivare fino a una certa ora e poi basta cioè andiamo dentro a mettere criteri di salute sulle scelte che facciamo ma ad ogni modo essendo questo un argomento che attiene al signor sindaco come autorità sanitaria locale ha avuto proposte emendamenti consigli pareri riflessioni da ogni parte di questo consiglio comunale e io penso che adesso potrebbe essere ragionevole che il sindaco faccia proprio tutto ciò che è emerso e la finiamo qui bene grazie consigliere del ben nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso il primo primo intervento la fase del primo intervento dichiaro aperto il secondo intervento consigliere Giannelli prego cinque minuti di intervento sono ricordo allora l'altra sera ero in una gausta austriaca ho fatto ho cenato parlando a voce bassa mi sentivo sentivano i miei interlocutori non c'era bisogno di alzare la voce cioè sono eppure duemila anni fa quando Giulio Cesare aveva l'acqua corrente calda nei suoi palazzi lì a Arnoldstein erano sugli alberi dipinti di che ululavano sono gente più civile loro eravamo noi il problema non è questo se voi andate in una pizzeria dovete urlare per dialogare perché tutti urlano la città allora è un problema culturale noi siamo fatti in modo diverso dagli austriaci che pure cenano poi gli austriaci quando vengono in Italia sono dolori lo sballo è fondamentale è inutile dire ai baristi di non vendere la billa vanno alla PAMA a comprarla a cartoni mandano il maggiore N poi se la bevano tra l'altro calda schifosa per sballare ragazzi con 10 euro si fanno 4 spritz col bitter 4 spritz col bitter sei ben carico allora il problema non è questo la città è viva però guardate che è viva perché ci sono i residenti provate a andare voi alle 11 di sera nella city di Londra non ci passate dove non ci sono residenti la città è morta attenzione non dobbiamo scontentarli dove è? la sperimentazione va bene io ho fatto però una come si chiama? un emendamento perché quella mozione che avete preparato era lacunosa quando si riferiva ai controlli ma come pretendete bene ha fatto De Bortoli come pretendete che i cittadini abbiano paura di andare contro le regole quando il nostro regolamento comunale scrive che i titolari delle autorizzazioni dei bar sono devono assicurare che i locali che nei locali sia rispettata la legge i controlli tecnici e strumentali possono essere eseguiti dai vigili possono e detti controlli risulteranno essere a corredo dell'eventuale verbale di contestazione signori miei non esiste cioè in quella delibera io l'ho emendata dicendo guardate io sono scettico però sono aperto alla sperimentazione e anche qui l'ottimo Dalmas ha ragione sindaco fai agisci prenditi la responsabilità fai sta sperimentazione su un semplice suggerimento di Lopez sta bene con la Barbara allora il problema è questo lo sballo ha ragione Franchin ci ha illuminati lo sballo produce rumore schiamazzi vomito sporcizia danni vi dico una cosa ho mandato ho fatto vedere un messaggio che mi è arrivato adesso da mia moglie stavano giocando in piazza 20 settembre a petto nudo a calcio a petto nudo neanche a Lignano puoi andare in giro a petto nudo salvo in spiaggia hanno diventato dei pezzi di pietra per fare le porte e quando sono arrivati i vigili hanno fatto anche i prepotenti cioè non voleva no no andava bene così si poteva giocare a calcio ecco allora il problema signori è un fatto di sballo di carica vogliamo fare questa sperimentazione o scriviamo bene che i controlli ci saranno e saranno rigidi esercitati dalle forze dell'ordine oppure di questo tipo di come si chiama restrizione dalle alle eccetera si fanno le seghe i ragazzi se ne fregano io nonostante tutto che vivo tra loro e mi confronto vado anche giù da solo i 4 o 5 di loro e mi faccio rispettare ma perché sono un ex santottino perché se no non vai giù cioè io sono andato contro la celere so che cosa vuol dire fare a botte e lo so fare ma gli altri non lo fanno io sono scettico il problema è lo sballo e il problema è garantire il rispetto delle norme però una linea di credito a questa proposta la faccio io personalmente e solo per questo vediamo cosa succede va bene grazie nessun altro iscritto perciò dichiaro chiuso il secondo intervento do la parola all'amministrazione se vuole replicare prego signor sindaco bene cerchiamo di fare come è stato più volte richiesto una sintesi della nostra lunga discussione a me sembra che gli elementi alla fine verso i quali per i quali ci viene chiesta una decisione sono se questa sperimentazione per un mese la vogliamo fare o no perché di sperimentazione si tratta e mi sembra che tutto sommato ci sia un consenso generalizzato se l'orario quindi prolungare dalla 23.30 all'una sia un eccesso oppure no vi dico la mia opinione spassionata secondo me deve essere portato all'una per un semplice motivo mezz'ora se la prendono già adesso e il nostro problema è garantire effettivamente i controlli perché visto il numero di bar che abbiamo ci vorrebbe un esercito ok di occupazione per riuscire quanti 800 Giannelli dai rimani rimani nell'ambito delle cose fattive il vero motivo per cui abbiamo discusso così a lungo questa questa delibere questa proposta e il terzo il fatto che si impari almeno questo è un tentativo che noi vogliamo fare ad autocontrollarsi ok ad autocontrollarsi altrimenti noi non avremo mai forze sufficienti in totale nella città per garantire questa cosa e siccome a me sembra che basta leggere i giornali dell'ultimo anno senza ritornare più indietro nel tempo che la richiesta di avere questa presenza musicale discreta discreta lo vedremo discreta in città forse da tempo sul tavolo delle nostre discussioni a mio avviso il dibattito che abbiamo acceso con una serie di dichiarazioni sulla stampa che ha portato a questa delibera deve essere inquadrato in questa prospettiva o riusciamo a provare dopo un mese che questa cosa si autosostiene si autoregola o secondo me è difficile che nel tempo possa essere prolungata quindi il fatto della diciamo tra virgolette tolleranza zero sugli orari circa gli orari sarà necessaria perché basterà uno che sgarri perché anche gli altri ne soffrano sul tema molto più serio che riguarda in effetti il patto di comunità dell'alcol in città sinceramente non è che questa delibera avesse l'ambizione di affrontare un tema di questo tipo certo il tema esiste siamo freschi di quanto è accaduto alla ragazza che per inciso non è stata affatto abbandonata e chiuso parentesi quindi è un problema che stiamo cercando di affrontare voi sapete con il CERT è stato fatto questo programma com'era sorrideremo tra vent'anni insomma sono state fatte un sacco di iniziative che confrontate con quelle che sono state le statistiche che ci sono state date recentemente nella presentazione del piano sanitario della nostra provincia non mi sembra abbiano avuto la ricaduta voluta questa è la verità il fatto che ci sia un controllo costante ve lo posso garantire perché è stato un patto che abbiamo fatto un anno e mezzo fa con le forze d'ordine finanza carabinieri polizia in verifiche sistematiche nei bar circa il dare alcol ai minori qualche cosa di costante e questo ha portato ad una decisa diminuzione nei bar ma come è stato detto se voi andate alla PAM col trucco del maggiorenne che si porta fuori lo zaino di vodka questo dovrei fare una delibera per vietare il consumo dell'alcol in generale in città mi sembra eccessivo mi sembra eccessivo non è questo ma quello a cui vi voglio portare è che la risoluzione di questi aspetti di consumo dell'alcol esige un programma con chi con il CERT e chi fa sanità nella nostra provincia che è a lungo termine perché passa attraverso le scuole attraverso le scuole superiori aggiungo partecipazione dei ragazzi o non nella discussione la consulta che noi abbiamo informato fin dall'inizio la consulta delle scuole superiori che abbiamo informato sin dall'inizio della discussione che avevamo in corso a parte un certo devo dire scetticismo iniziale sarà con noi nella discussione le prossime le prossime volte quindi per capire anche il loro punto di vista e capire bene alla fine un argomento come questo come svolgerlo quindi in buona sostanza secondo me la cosa che noi dovremmo questa sera deliberare facciamo il test di questo mese l'autocontrollo lo stabiliremo con gli esercenti perché o abbiamo gli esercenti dalla nostra parte per fare questo autocontrollo o non ci riusciremo mai ve lo posso dire con tranquillità è chiaro che c'è una solidarietà di tipo di categoria è vero questo ma se non aiutiamo quelli che lavorano bene a darci una mano per far sì che chi lavora male sia una minoranza questo modello non riuscirà mai a essere implementato questo è quello che stiamo cercando di fare perché se ci riusciamo veramente saremo forse una delle poche città in cui questo non è vero che dalle altre parti è stato fatto andate a vedere che cosa succede nelle città quando c'è il mercoledì universitario e sentite cosa dice la gente ok è sofferto non è goduto dalla comunità noi vogliamo un modello un po' diverso in cui tutti insieme possiamo godere di questo modello quindi vi ribadisco un po' i contenuti che ci sono dentro anche rispetto all'orario perché quello ci fa capire se questa cosa nel tempo è sostenibile oppure no la sperimentazione che sia chiaro che venga anche ben scritta nei giornali sperimentazione non è un default non è per mancanza indicazione che si prolunga il test poi deve essere valutato perché in base a quello si può stabilire bene come possa diventare un modello permanente e come i nostri regolamenti possono essere cambiati così era lo spirito della proposta non vedo non credo che sia il caso di aggiungere altro bene grazie signor sindaco passiamo alle dichiarazioni di voto bene dichiaro aperte le dichiarazioni di voto allora De Borto e Giannelli stesso gruppo pertanto qualcuno di voi dichiara perché voterà a Giannelli signor sindaco signor sindaco autocontrollo gli esercenti ci danno una mano voi provate a girare per manata anche una bottiglia in mano vi fanno un culo così quando un ragazzo è sballato o è un delinquente quando quando un ragazzo è sballato o è un delinquente se arrivano i nostri vigili che sono persone per bene se ne fregano prima in piazza 20 settembre quando sono arrivati i vigili si burlavano di loro allora dovete spendere più soldi per la polizia comunale che deve essere autorevole perché ben pagata perché essere in tanti perché non sono negli uffici a rompersi le balle perché vanno fuori sono amati tra la gente quindi io non credo a tutte queste queste sono cose che non hanno senso i ragazzi bevono sono ubriachi e non hanno paura di nessuno salvo di chi? di poliziotti che sono autorevoli che sono gente che sa cosa fare e sono gente che può reprimere la delinquenza e i casini che si vengono a creare io voterò a favore di questa mozione o delibera non lo so in difformità dal gruppo ecco perché ho fatto una dichiarazione di voto e una la fa anche De Bortoli in qualità diciamo al posto del capogruppo mai mi sarei permesso di voto a favore perché ho fiducia che le cose possano cambiare ho fiducia che i giovani possano capire che non è necessario sballare per divertirsi ma sentire un bravo chitarrista o sentire magari un violino ma è pizzinato mi va bene anche la techno music non so come faranno fare l'acustica però ok va tutto bene purché ci si diverta purché la città cresca però è fondamentale che chi fa il cretino sappia che arriva a qualcuno gli storia il braccio lo piega in avanti e lo porta dentro resta su tutte cazzate ecco finale bene consigliere de Bortoli prego sindaco ecco ecco non tocco non tocco prova sindaco io purtroppo rimango deluso da quello dal suo intervento lo dico chiaramente sa quante volte l'ho manifestato la mia stima nei suoi confronti ma questa volta devo proprio manifestare la mia delusione perché non si può dire cosa ci vogliono 800 vigili per controllare la città ma che discorsi sono questi qua scusi ma allora guardi domenica e sabato hanno fatto una rettata di venditori ambulanti nelle spiagge e il giorno dopo erano tutti quanti rigenerati ma perché perché quelli che hanno cacciato via sabato li hanno accompagnati per favore puoi andare via e all'indomani sono tutti rimpiazzati non è questo lei mi deve spiegare perché se io vado in Slovenia in ferie non c'è neanche come comprare una spiaggia lei provi ad andare in Slovenia a Parenzo anche in Croazia vedi se c'è uno che vende roba in spiaggia mi sa spiegare perché qua invece non siamo tartassati da ogni minuto uno che passa sotto la spiaggia ma questo non per dire nulla io sono solidale con la città di Pordenone vi ho detto prima è due anni che crediamo che la città ha necessità di qualcosa ha bisogno chi ha investito in questa città chi ha i negozi in questa città chi ha l'attività in questa città ha bisogno di essere aiutato su questo ma che lei mi venga a dire ma ci vogliono 800 vigili per controllare la città no ci vogliono regole la città ha fatto di regole capisce questo? c'è regole quando uno non sta alle regole come le ho detto la vecchina butta la scatola di plastica dentro le mondizie l'avverto la prima volta la seconda volta la seconda volta le mettono la sanzione vero sia o no assessore arriva la sanzione questo è il dato di fatto allora io non dico io dico a tutti i commercianti fate domanda vi do il regolamento vi do lo stampato e vi do le sanzioni che vi do che vi vi emano vi applico nel momento in cui non lo rispettate e vi mando i controlli non come voi pensate di farmi fesso perché poi qui c'è qualcuno che si sente più furto degli altri vuole far fesso alla pubblica amministrazione perché vi mando dei controlli che sicuramente avrete sanzionati e questa è la deterrenza quando l'ho fatto prima il discorso che un vigile o un poliziotto va via armato è una deterrenza rispetto a quelli che pensano venire a Pordenone a delinquere è una deterrenza dicono Pordenone non ci andiamo avete cambiato le divise dei vigili perché sono più agili più attivi più impregnati a questi vigili con quell'abbigliamento se li mettiamo via in gravattina in camicia e in giacchina come fanno a correre a trovare un delinquente vado a vedere anche in Francia a Parigi come sono le guardie il baschetto gli anfibi ma li prendono quando scapono mica stanno lì aspettare a chiamare gli altri allora questo volevo dire lei doveva fare un ottimo regolamento aiutare i commercianti a fare domanda danno tutti gli elementi importanti dire che faremo i controlli veri e non servono 800 vigili si fanno i controlli come si fa sul traffico come si fa sugli fiuti urbani come si fa su tutte le cose che facciamo sull'abusivismo su tutte le cose che facciamo i controlli in questa città qua va bene? lo si fa anche per questa cosa qui ecco che allora i commercianti avevano la deterrenza di mettersi in regola e di non abusare e i cittadini del centro pordenonese erano tranquilli perché sapevano che se anche fossero venuti delle persone delinquere perché poi la salabanda porterà gente da fuori che verrà a Pordenone se ci sarà questo movimento allegro e dunque avremo anche gente indigena che viene dentro non soltanto i nostri che verrà qui a divertirsi allo sballo quella sera là capisce? abbiamo visto qualcuno dice ah ma io se avessi voto una bastone avevo rotto anche io qualcosa tanto rompevano tutti avevo rotto anche io abbiamo visto come viaggia il mondo oggi ecco allora io voterò contro questa delibera non per la bontà e l'azione che hanno fatto i colleghi consiglieri non per i commercianti non a favore dei 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 ma spaventato per quello che lei ha detto ecco perché voto contro questa delibera consigliere Piccinato prego grazie presidente io chiaramente voterò a favore di questa delibera perché credo che finalmente si debba riuscire a fare un passo avanti cercando di trovare la quadra a uno dei grossi problemi del centro certo non è l'unico problema ma è uno dei problemi si inizia cercando di fare dove si può fare qualcosa questo è chiaramente il primo passo è chiaramente questa è una sperimentazione l'abbiamo detto in ogni modo in ogni salsa sui giornali è stata spesso fraintesa per sono stati alzati i toni per descrivere qualcosa che a mio modo di vedere non è e non sarà invece bisogna dire che cos'è questa è cultura si vuole portare la cultura e l'arte con della buona musica si vuole portare a vivere la città in maniera migliore a portare veramente della qualità all'interno della nostra città a riportare quelli che sono i gruppi musicali a riportare quella che sono anche opere insomma come dire teatrali un po' di qualunque forma di arte ed espressione perché poco tempo fa l'avevamo visto che sono tantissimi giovani che dicevano giovani ma anche meno giovani por de noia cioè qualcosa veramente dove si era nel nulla e quindi bisogna dare un'offerta anche a una certa ora che possa garantire di fare movimento all'interno della città perché è anche una questione di sicurezza garantire appunto una certa continuità di flusso all'interno della città e nelle periferie io scommetto anche su un paradosso nel senso che agire in una maniera coordinata di programmazione di musica di eventi che possano in qualche modo riportare l'attenzione del centro e delle periferie con queste attività possa garantire anche a molti residenti che abitano in quelle zone una più ordinata tranquillità nel senso che è molto facile che si realizzi una certa rotazione degli eventi tra i vari esercizi commerciali con anche un cambio di flusso di partecipanti ovvero non più solo ed esclusivamente giovani che cercano sballo ma anche trentenni quarantenni cinquantenni e sessantenni che vanno a bersi un semplice bicchiere e ascoltano della buona musica partecipano a delle attività culturali e riescono con tranquillità a dare una visione della città completamente diversa rispetto a prima essendo ordinati e garantendo il rispetto della vivibilità della zona è chiaro che questa delibera dal mio punto di vista porta in sé una grande forza che è quella di dire questa è un'occasione che diamo alla città siamo pronti a ritirarla non confermando la sperimentazione e quindi è ovvio che ognuno deve far la propria parte e dire prendersi le sue responsabilità e dire io ce la sto mettendo tutta per trovare questo patto con la cittadinanza commercianti esercizi tutti cittadinanza e fruitori e quindi questa cosa o funziona o si toglie siamo pronti se non dovesse funzionare a cambiarla a toglierla si vede insomma e questa è insomma la vera forza di questa sperimentazione poi come ultima cosa la questione della della sicurezza tolleranza zero dal mio punto di vista nel senso che chi pisce spacca va manganellato a qualunque ora che sia al mattino o a mezzanotte dove vuoi però i controlli devono esserci sempre grazie grazie consigliere Piccinato consigliere Masello prego grazie presidente signor sindaco io ero già intervunuto la volta scorsa quindi non ho molto da aggiungere soltanto devo fare l'ennesima osservazione per alcuni interventi che ci sono stati questa sera per alcune per la lettura che qualcuno di quel consigliere ha dato alla delibera una lettura un'interpretazione un po' troppo ristretta si è basato in un'interpretazione solo ha fatto si è stata fatta un'interpretazione sono in termini economici che certamente a me e al mio gruppo non appartiene senza forse cogliere quegli aspetti culturali e sociali che ha la delibera finalmente noi con questa delibera siamo riusciti e abbiamo fatto un tentativo di poter risolvere come ha detto lei giustamente quell'annoso problema che è quello del rumore in centro città e faccio presente che comunque la delibera si estende a tutta la città siamo riusciti a mettere su tavolo quei soggetti protagonisti gli attori i quali stanno tentando in base a questo patto di autocontrollo di poter una volta per tutte di verificare se si riesce una volta per tutte in questo mese di sperimentazione di risolvere questo problema poi ribadisco anche una cosa che mi sta molto a cuore che anche oggi ho sentito in alcuni interventi almeno quantomeno mi sembrato di capire questa non è una delibera proposta nell'interesse delle categorie commerciali degli esercenti quindi non è una delibera che voglia essere una bieca manovra elettorale ma io ritengo che semmai chi invece oggi ha cambiato idea quindi ha scelto di rimanere immobile scegliendo l'immobilismo quindi non scegliendo lo ha fatto solo per un mero calcolo elettorale noi abbiamo fatto stasera facciamo una scelta giusta sbagliata non importa perché noi vogliamo che questa città sia governata e chi amministra deve governare e non deve accontentare quindi ci deve provare infine io colleghi vorrei rassicurare tutti quei cittadini che c'erano la volta scorsa oggi abbiamo incontrato dei cittadini del centro le associazioni di Acquanova e altre le associazioni di categoria che sicuramente tutte le decisioni che noi prenderemo in futuro dopo questa sperimentazione se funziona dopo questa fase sperimentale saranno prese insieme a voi abbiamo deciso di costituire con voi questo tavolo perché la nostra idea quella dei proponenti ma di tutta la maggioranza è quella di promuovere la musica oltre alle forme e altre forme artistiche per eliminare invece per sempre il rumore fare un patto quindi tra tutti istituzioni cittadini operatori per definire qual è la musica gradita e quali rumori vadano invece combattuti concludo facendo appunto la dichiarazione di voto alla delibera che è sicuramente favorevole voto certamente favorevole anche per gli emendamenti presentati dalla consigliera Daniello Pedicini scermet non è dichiarazione di voto scermet Pedicini e del Ben riteniamo che no? ah lo pipero scusate scusami lo pipero riteniamo che visto la natura sperimentale visto la natura sperimentale dell'emendamento della delibera l'emendamento non è conferente l'emendamento del consigliere Giannelli e pertanto è un voto negativo e quindi io ho concluso grazie grazie consigliere consigliere del Ben vorrei cortesemente mi fosse letto il testo che viene posto in votazione ho chiesto che mi venga letto il testo che viene posto in votazione scusi consigliere siamo in dichiarazione di voto ancora facciamo interrompo ho diritto di sapere cosa voto e allo Stato allo Stato ma chi lo deve leggere scusi scusa silenzio ma chi lo deve leggere scusi il Presidente se vuole perché su richiesta sua perché qual è il motivo Presidente lei sa che io non l'ho votato ne lo voterà in futuro scelga lei io mi alzo e chiedo da consigliere comunale mi venga letto non mi chiede da chi quello che viene posto in votazione non è rituale lei credo possa dare ordine anche se non mi ha votato mi dispiace siamo in dichiarazione di voto io non posso interrompere dichiarazione di voto se lei vuole fare la dichiarazione la faccia se no io non posso leggere il documento adesso l'avrebbe dovuto chiedere all'inizio della seduta comunque lo può aver letto lei come possono averlo letto i consiglieri anche per idea vuole fare la dichiarazione di voto consigliere no bene se non vuole fare dichiarazione di voto passiamo al consigliere ma qual è il problema scusate che non capisco qual è il problema che non capisco perché dobbiamo interrompere signori ci accorgiamo adesso in dichiarazione di voto permettete allora consigliere del bene lei fa la dichiarazione di voto la mia dichiarazione di voto è che resto in sala ma non voto visto questo atteggiamento che non ho la lettura integrale di ciò che viene posto in votazione abc abc del comportamento corretto veda lei grazie consigliere del bene consigliere daniello prego sì grazie molto brevemente allora secondo me cioè io voto a favore e con me porto il il voto favorevole anche dei colleghi che hanno formulato l'emendamento con me proprio per quello che ha detto il sindaco questa non vuole essere secondo me una delibera di risoluzione di tutti i mali e soprattutto di risoluzione delle potenzialità delle potenziali crisi dei ragazzi dei ragazzi giovani e perché ci sarebbero ben altre cose da dire ma credo sia appunto da votare proprio per la sperimentazione che porta con sé quindi per un tempo breve e quindi poi visto che avete anche convocato la consulta saranno proprio i ragazzi che vi daranno gli indirizzi da portare e su cui accorgere meglio le cose insomma e badare grazie grazie consigliere consigliere Piccin prego grazie presidente faccio la dichiarazione di voto in difformità rispetto al collega del gruppo Piccinato che ha proposto che è tra i firmatari proponenti di questa delibera ha ragione del ben ha ragione del ben perché noi con questa delibera deliberiamo votiamo di approvare l'atto di indirizzo proposta per la sperimentazione su deroga orari per la musica nel centro abitato allora io che leggo questo giro e dico cosa approviamo approviamo da indirizzo al sindaco alla giunta ai dirigenti competenti di derogare approviamo questo mi confermate derogare in via sperimentale gli orari indicati articolo 37 durante i giorni di venerdì e sabato del mese di giugno 2015 quindi siamo immediatamente eseguibili sta qua estensione dell'orario fino a luna nell'orario di deroga dalle 23 a luna e di organizzare bla bla quindi noi approviamo questa roba qua mi confermate compresi gli emendamenti che sono stati presentati volevo poi esatto per un mese non so qua dice per il mese di giugno qua dice per il mese di giugno non per un mese altrimenti va emendata sta roba altrimenti va emendata fatemi finire sarò veloce volevo semplicemente evidenziare che al di là di questa questione burocratica amministrativa che risolverete voi come riterrete di risolvere io non voto favorevolmente a questa proposta di deliberazione mi astengo non voto contrario unicamente per un motivo perché qui si tratta di una sperimentazione se leggo bene ne rimangono 20 giorni di sperimentazione tre fine settimana quindi come dire si tapperanno le orecchie gli abitanti del centro che come giustamente diceva Giannelli devono essere tenuti in alta considerazione perché senza residenti il centro non c'è e non è vivo allora io mi astengo perché attendiamo come va la sperimentazione può anche succedere signor sindaco che questa sorta di autocontrollo e autorregolamentazione che in qualche modo gli esercenti dovranno mettere in atto perché abbiamo compreso che non sarà possibile fare i controlli così come dovrebbero essere fatti ma era prevedibile ed era uno dei dubbi che io avevo quando ho fatto il mio intervento in discussione generale dicevo e non vedendo accolto nemmeno il mio emendamento lei dice aumentare di mezz'ora non ha senso perché tanto la mezz'ora già se la prendono allora se se la prendono adesso la mezz'ora fino a mezzanotte dopo quando è a luna si prenderanno fino a luna e mezza allora non mi sembra molto plausibile come dire questo tipo di ragionamento quindi il mio voto sarà di estensione come ho detto perché non facciamo una sperimentazione non modifichiamo il regolamento grazie a Dio eventualmente per la modifica torneremo in consiglio comunale mi auguro auguro successo positivo a questa iniziativa auguro che non ci siano problemi anche se qualche dubbio ce l'ho in merito a questo grazie grazie consigliere Pellicini prego sì grazie allora faccio un po' di ordine anch'io gli emendamenti presentati al deliberato saranno effettivi dal momento che verranno votati che anticiperanno il voto finale sulla delibera quindi quando avremo votato sugli emendamenti sapremo qual è il testo definitivo giusto bene lo dico per assicurarmi che nel frattempo non è cambiato qualcos'altro quindi ci siamo allora io annuncio il voto favorevole alla delibera per il motivo che ho già spiegato prima abbondantemente non serve che lo torno a spiegare adesso è una sperimentazione è un momento di anche larga condivisione all'interno di questo consiglio comunale e approfitto di questi pochi minuti di dichiarazione di voto per dire che sarebbe ora che questa città cominciasse a costruirsi al di là delle barriere degli steccati ma cominciasse anche a presentare dei progetti ampiamente condivisi quindi voglio fare veramente un plauso a chi ha promosso questa delibera per chi ha cercato un consenso trasversale non per avere i voti in consiglio che non gli servivano ma cercando veramente io mi sono lamentato tante volte di questo all'interno del consiglio comunale di condividere una determinata iniziativa una determinata delibera non l'ho detto prima nel mio intervento lo dico adesso mi capita a volte quando pranzo a casa con mia figlia la più grande di chiacchierare delle varie questioni e io posto anche questo tipo di questione per capirci e vi posso assicurare che il giudizio che mi ha dato in modo molto spassionato è stato quello di dire papà anche con i rischi che poi i rischi erano altri e non quelli che poi emergevano da questa da questa delibera mi ha invitato a votare favorevolmente questa delibera cosa voglio dire con questo lo dico perché molte volte all'interno di questo consiglio comunale come in altre occasioni ci costruiamo degli steccati e delle barriere che sono più di carattere tra virgolette partitico politico se volete dargli che poi non è questa la politica la politica è quando si cerca di lavorare per il bene della propria comunità certamente ci sono dei rischi e quindi un plauso a chi ha promosso questa delibera il plauso per chi ha voluto condividerla in modo trasversale all'interno di questo consiglio comunale in questi cinque anni in quattro anni non ce ne sono state tantissime di occasioni questa forse è una di quelle dove tutti quanti potremmo cercare potevamo e possiamo cercare di migliorarla non di peggiorare questo tipo di iniziativa è marginale non è questa fondamentale non è la fine del mondo non risolviamo i problemi del commercio non risolviamo i problemi di questa città però è un bel segnale e allora per incoraggiare per dire che questo segnale è un segnale positivo a mio avviso che va perseguito e ho visto i nomi dei firmatari che sono stati di posizioni anche completamente diverse l'una dall'altra il mio voto è favorevole convinto augurandomi che questa sperimentazione riesca non so se si può ancora mi farebbe piacere che fosse proprio un mese poteva essere anche tutta l'estate ma rimaniamo a quello che siamo e poi potremo sempre riprenderla e quindi voterò gli emendamenti ovviamente quello che ho sottoscritto e gli emendamenti che salvaguardano la delibera e non quelli che cercano di annullarla o di eliminarla e quindi annuncio voto favorevole in questi termini grazie grazie consigliere consigliere grazie presidente grazie ai colleghi che hanno dato il proprio contributo al dibattito un dibattito attorno a una proposta di delibera appunto come diceva il collega per un patto da condividere un patto tra consiglieri comunali di diversi schieramenti un patto tra i cittadini gli esercenti chi vive nella città chi vuole contribuire a sviluppare delle determinate attività di qualità in città e penso che sia importante perché brevemente io rimango stupito quando vedo che di fronte ad un evento di caratura mondiale come i mondiali di paraciclismo a Maniago la gente si lamenta del fatto che le strade vengano chiusi allora mi chiedo se forse non si inizia a vivere un po' troppo in modo egoistico la vita cittadina perché nel momento in cui ci sono degli eventi che possono dare risalto alla città eventi importanti anche perché hanno un carattere sociale molto importante con un valore molto importante allora forse bisogna iniziare a fare un passo indietro a dire io vivo in questa comunità e anche se oggi magari faccio dieci minuti di ritardo per andare al lavoro perché c'è questo evento beh forse è il caso di chiudere un occhio stessa cosa è successa porci l'altro giorno per una maratona organizzata la sera perché la gente va in sospedazione appena li chiudono le strade e la stessa cosa deve essere fatta anche quando si chiede di fare un passo indietro vedere se si può fare una sperimentazione per avere una nuova proposta si fa una sperimentazione in cui si dice proviamo a vedere se facciamo degli eventi di una caratura decisamente diversa rispetto a quelli che magari sparano la musica alta tutto il livello con l'unico incentivo a bere questo non è assolutamente l'obiettivo perché l'obiettivo è quello di dare vitalità alla città facciamo un patto tutti assieme facciamo in modo che ci sono i controlli sul territorio per far sì che chi è armato di buona volontà possa andare avanti con la propria sperimentazione e dare lustro alla città e far vedere che siamo in grado anche noi in modo trasversale sia politicamente che a livello di vita cittadina a livello di cittadini che vivono la città di dare un esempio di successo e far sì che Pordenone non sia la città che deve andare a traino delle altre città ma sia magari una città che dia l'esempio e sia appunto un punto di riferimento per le altre città grazie grazie consigliere lo perfido bene nessun altro iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene allora prima voteremo ovviamente gli emendamenti e dopo voteremo la deliberazione allora comunico di dare avvio alle procedure di votazione iniziando dall'emendamento presentato dai consiglieri Daniello Charmè Lopipero e Pedicini emendamento alla proposta di deliberazione numero 14 del 2015 bene dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le operazioni di voto risultato della votazione seguente presenti 38 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 31 contrari nessuno astenuti 5 l'emendamento è stato approvato passiamo ora a votare l'emendamento presentato dalla consigliera Mara Piccin dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 38 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 3 contrari 28 astenuti 5 l'emendamento viene respinto passiamo passiamo ora all'emendamento per cortesia per cortesia bene passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal consigliere Giannelli dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 38 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 5 contrari 24 astenuti 7 l'emendamento viene respinto pongo ora ai voti la proposta numero 14 2015 atto di indirizzo proposta per sperimentazione su derego rari per musica nel centro abitato presentato dai consiglieri comunali l'operfido Piccinato a Salvador e Tomasello così come emendata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto silenzio per cortesia legge la votazione seguente presenti 38 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 31 contrari 3 astenuti 2 la deliberazione è stata approvata scusate cortesia vorrebbe che si facesse silenzio in questi momenti consigliere Dalmas se no dopo facciamo gli errori dobbiamo verbalizzare bene pongo adesso i voti l'immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 37 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 31 contrari nessuno astenuti 3 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora alla deliberazione proposta numero 15 2015 modifica gli articoli 4 5 e 8 del regolamento speciale norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale del comune di Pordenone approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 65 del 23 luglio 1998 relativi alla dotazione di spray anti-aggressione al personale della polizia locale e dall'esonero del porto d'arma quando le peculiarità del servizio consigli la non ostentazione di tali mezzi signori signori per cortesia per cortesia consigliere Pelicini e consigliere Salvador signori signori per cortesia allontanatevi consigliere Pelicini e consigliere Salvatore uscite dall'aula se dovete parlare per cortesia Giannelli e Giannelli scusa bene signori continuiamo i lavori consigliere e no assessore Zille prego posso vedere prego allora questa sera come appena annunciato il presidente proponiamo la modifica degli articoli 4 5 e 8 del regolamento speciale le norme concernenti all'armamento degli appartenenti alla polizia municipale del comune di Pordenone questo si è reso necessario perché voglio ricordare che attualmente gli agenti della polizia locale sono dotati di arma da fuoco la pistola che può venire usata secondo precise norme legislative per legittima difesa e per contrastare minacce che possono essere poste in essere da soggetti armati e armati di altrettanti mezzi da fuoco quindi quando possono essere usati quando altri usano mezzi da fuoco quindi per legittima difesa dato che nello svolgimento del servizio gli agenti per poter svolgere le varie attività di intervento possono venire coinvolti in collutazioni e confronti fisici diretti provocati spesso da soggetti particolarmente aggressivi al fine di salvaguardare l'incolumità fisica degli agenti della polizia locale con efficaci strumenti per la propria difesa personale e nello stesso tempo proporzionali alla minaccia la dotazione dello spray anti-aggressione appare un mezzo più consono e adeguato per opporre una reazione difensiva proporzionale alla minaccia subita e che nella fattispecie non abbia effetti lesivi né per gli utilizzatori né per coloro il cui lo spray viene diretto questa sostanza è l'oleoresin capsicum che è un principio attivo naturale dicono che appunto venga ricavato dal peperoncino che viene nebulizzato come autotutela secondo il decreto ministeriale del 12 maggio 2011 numero 103 che autorizza l'utilizzo secondo le indicazioni che sono state stabilite di concerto tra il ministero dell'interno e il ministero della salute che appunto in attuazione dell'articolo 3 della legge comma 32 della legge 94 2009 altrettanto lo prevede anche la norma regionale la numero 9 del 29 aprile 2009 che il comma 2 l'articolo 18 prevede le norme che disciplina gli strumenti di autotutela in dotazione della pulizia municipale la regione nel 2014 ha avviato i corsi e tutto il nostro personale di pulizia locale ha partecipato ai corsi di formazione ottenendo l'attestato di donità per detti dispositivi di autotutela ora l'amministrazione per tutelare i propri agenti e rendere più efficace e in sicurezza il loro lavoro intende sottoporre al consiglio comunale le seguenti modifiche regolamento concernente l'armamento della pulizia locale e vado che vado velocemente ad illustrare nello specifico all'articolo 4 viene aggiunto il coma 4 che prevede appunto l'adozione dello spray anti-aggressione e sempre l'articolo 4 viene modificato anche il coma 3 che riguarda le sciabole in dotazione degli agenti degli ufficiali agenti che oggi erano previste nel vecchio regolamento a disposizione 3 sciabole ora ogni agente ogni ufficiale ha in dotazione la propria sciabola e quindi è un adeguamento alla nuova normativa all'articolo 5 viene inserito e in questa occasione che in casi particolari il personale è esentato dal tenere con sé appresso la pistola questo per servizi interni oppure anche per servizi esterni che però non è necessario penso ad esempio quando vanno nelle scuole a fare ad esempio educazione stradale con questa modifica al comma 1 che viene appunto aggiunto il comandante può determinare quando può essere utile avere l'arma oppure no perché ripeto in alcuni servizi non è necessario e tanto meno durante i servizi interni all'articolo 8 si prevede la riduzione da 8 a 3 le giornate di addestramento per l'uso della pistola questa modifica è stata resa necessaria perché ormai da tanti anni da quando viene formato il personale che deve fare queste esercitazioni non si riesce più di tre volte all'anno a mandare il personale al tiro segno per fare questo tipo di esercitazione e quindi lo abbiamo adeguato a quella che ormai è la prassi poi viene adeguato viene fatto l'adeguamento della denominazione che nel vecchio regolamento si parlava di polizia municipale e quindi viene adeguato secondo la regge regionale appunto la numero 9 del 2009 con il termine da polizia municipale viene indicato con polizia locale cioè nel regolamento si prevede tutte le modifiche delle diciture da polizia municipale a polizia locale espressamente l'articolo 4 prevede al comma 3 oltre che la modifica da polizia municipale a polizia locale che è prevista inoltre la dotazione di sciabole per i servizi di guardia d'onoro per gli ufficiali perché questo è previsto nella legge regionale quindi noi lo dobbiamo mentre il comma 4 che è stato aggiunto è quello specifico in cui l'addizione è la seguente il personale della polizia locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e che presta servizi esterni in base al successivo articolo 5 e altresì dotato di strumenti di contenzione quali manette e dispositivi di tutela dell'incolumità personale tra cui bombolette spray irritanti anti-aggressioni al peperoncino privi di effetti lesivi e permanenti rispondenti alle caratteristiche previste dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 numero 103 l'addestramento e la successiva assegnazione in uso nonché la modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo per gli strumenti di contenzione e dispositivi di autotutela è prevista l'adozione di un apposito recisto di carico e scarico nel quale sono notati la presa in carico e la restituzione degli stessi nonché le sostituzioni delle parti soggetti a consumo e a deterioramento fermo restando quanto previsto l'articolo 29 del regolamento del corpo il personale deve prestare presentare immediata relazione del comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo anche parziale dei dispositivi di autotutela o degli strumenti di contenzione indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di polizia giudiziaria che ne potranno conseguire nei servizi in borghese i dispositivi dovranno essere occultati all'articolo 5 viene aggiunto questo paragrafo il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenerla stessa in immediata disponibilità con disposizione del comandante possono essere esonerati dal porto di armi di strumenti di contenzione di dispositivi di autotutela li appartenenti al corpo che sono comandati ad espletare servizi o attività di istituto le cui peculiari qualità consigliano una non ostentazione di tali mezzi vi ho fatto l'esempio quando vanno a fare ecco al comma al comma 2 per gli altri servizi di quali il personale è destinato in modo non continuativo l'arma è assegnata di volta in volta secondo specifiche esigenze di servizio secondo specifiche all'articolo 8 viene modificato il termine chiaramente polizia da polizia municipale a polizia locale e viene definito che le volte che ci si deve recare al tiro a segno sono almeno tre volte anziché otto come era previsto nel precedente regolamento che poi di fatto non si riusciva mai ad effettuare ecco questo è quanto ho illustrato nella delibera grazie assessore chiedo se ci sono richiesti chiarimenti da parte di qualche consigliere prego consigliere io sono molto perplesso sull'abbattimento dell'addestramento da otto volte l'anno a tre volte l'anno una volta ogni quattro mesi cioè tenuto conto che l'uso dell'arma da parte di agenti della polizia municipale avviene in contesti urbani quindi complicati difficili e quanto più si spara quanto più si addestra meglio è è vero che il comandante mi ha rappresentato le difficoltà oggettive di fare addestramento cioè pochi uomini e costi per il munizionamento per il poligono di tiro però io sono del parere da esperienze pregresse che quanto più si fa l'addestramento è sempre pagante anche a tutela degli stessi operatori perché se sono addestrati chiaramente reagiscono al meglio delle loro possibilità grazie mi associo all'osservazione del consigliere Perrone chiedo se questo standard cioè tre addestamenti all'anno è uno standard riconosciuto a livello regionale o a livello normativo grazie consigliere Pedicini prego sì no volevo la mia il mio dubbio era solo chiedere informazioni riguardi riguardante quante aggressioni hanno subito la polizia locale nell'ultimo anno negli ultimi anni se ci sono state aggressioni da parte di malavitosi o ai danni della polizia locale mi veniva solo questo dubbio vorrei sapere o nell'ultimo anno negli ultimi anni quante sono state se ce ne sono state quante sono state va bene grazie prego chiederei gentilmente al comandante se può venire qua in base sono delle domande estremamente tecniche quale se c'è uno standard previsto a livello regionale nazionale che è un minimo di che per l'addestramento allora per quanto riguarda l'addestramento le motivazioni per cui ho ritenuto di proporre di ridurre è che è cambiato anche il sistema di addestramento noi abbiamo la fortuna di avere in comando anche un istruttore di tiro abilitato e quindi con questo sistema sono cambiati anche i modi di addestrarci normalmente cosa fanno in giro si va al poligono si sta lì fermi statici e si sparano i 50 colpi alla sagoma noi invece abbiamo un tipo di addestramento dinamico in cui vengono fatte le diverse posizioni in cui ci si può trovare e abbiamo la possibilità anche di fare in modo che noi tutti siamo più preparati e pronti ad affrontare eventuali emergenze lo standard minimo che viene chiesto dalle attuali disposizioni di almeno una volta all'anno addestramento alle armi noi li abbiamo portati a tre perché oltre al sistema di addestramento c'è anche il sistema di turnazione perché dobbiamo utilizzare l'attuale poligono di tiro il personale deve andare un certo numero alla volta e quindi ci sono tutta una serie di motivazioni logiche pratiche che non permettono di arrivare a fare otto volte su un anno come era stato previsto quando è stato fatto il regolamento con la loro sindaco Pasini non siamo mai riusciti ad effettuare più di queste volte di addestramento su un anno quindi è una realtà pratica da prendere in considerazione più che dire di andare tante volte che poi non riusciamo conviene dire che l'addestramento minimo è tre volte se poi riusciamo andremo anche di più ma che almeno le facciamo tutte interamente prego prego le aggressioni hanno subito a voi che avete intenzione la carne e le sue anni e le aggressioni negli ultimi anni adesso il numero consigliere non me lo ricordo però siamo stati aggrediti abbiamo avuto problemi anche fisici e questo avviene soprattutto soprattutto nei servizi serali e notturni con persone che non gradiscono di essere identificati di essere fermati e per cui poi è bello anche rivedere quella aggressione che c'è stata ai nostri due agenti di servizio di notte lì all'incirca all'incirca dove c'è adesso il teatro dove c'è il teatro Verdi in cui si vede chiaramente i nostri che sono aggrediti da questi personaggi e tutta la gente attorno che filma con il telefonino ma nessuno ci viene a dare una mano e quindi poi si va a finire in ospedale infortunati e devo dire che è andata bene ed è anche molto importante il nostro addestramento non solo formale ma anche psicologico perché non avendo altri sistemi di difenderci se non le mani perché questa è la realtà di fondo e non dovendo utilizzare ritenendo di non dover utilizzare l'arma perché deve essere proprio l'ultima razio in queste occasioni molte volte noi ma anche come succede leggete dai giornali in molte parti d'Italia le prendiamo perché possiamo solo difenderci con le mani e credetemi non è sempre facile grazie grazie comandante bene ci sono altri chiarimenti pertanto dichiaro aperta la discussione il consigliere Peticini si è già iscritto a parlare prego la domanda che le ho fatto comandante è riferita al fatto che la delibera recita la dotazione di spray anti-aggressione ed è una per capirci è una limitazione dell'utilizzo di questo spray nel senso che viene indicato messo così in delibera gli agenti di polizia locale quindi ne saranno dotati ma lo dovranno usare in caso di aggressione e quindi è limitato solo a questo invece ritengo quindi che per esempio nell'intervenire in determinate azioni possa essere anche usato per sedare o bloccare eventualmente dei faccini aurosi o chi in quel momento ecco non vorrei che questa fosse una limitazione che esclude tutto il resto delle possibilità io sono perché sia dato in dotazione non solo con funzioni anti-aggressive nel senso se venite aggrediti lo potete tirar fuori se no non lo potete tirar fuori e visto che è uno spray che non crea danni che non è come posso dire lesivo del cosa dare a discrezione della gente di polizia locale anche per sedare eventuali situazioni potrebbe essere messo in questo modo mi sembra ecco perché le ho fatto quella domanda era riferito su questo quindi mi sembra quasi che sia una limitazione nell'esercizio della di questo spray visto che così come è stato descritto non ha delle conseguenze letali allora chiamarlo anti-aggressione sembra solo che possa essere usato se in caso che sono aggrediti se non sono aggrediti lo spray rimane in tasca non c'è altra possibilità immaginiamo di intervenire in una rissa o immaginiamo di intervenire in una situazione in cui scusatemi in cui c'è una persona che sta facendo del male a un'altra persona magari a una donna una cosa eccetera la gente di polizia locale interviene per bloccare questa persona a mio avviso potrebbe usare tranquillamente lo spray o per renderlo a più o meno di consigli in questo caso non è più lui l'aggredito ma l'aggredito è una terza persona e lui usa lo spray cioè non vorrei che da qui si vadano cerchiamo di come posso dire di essere più tranquilli su questa situazione e lasciare poi la discrezionalità in determinate situazioni dell'aggredito di polizia locale di poter intervenire quindi suggerisco questo un emendamento che vada a non limitare adesso vi casca in testa spero di essere stato chiaro grazie bene grazie sì allora alcune precisazioni perché poi tutto nasce dal fatto che la base di qualsiasi armamento o altro strumento di autotutela deriva da una normativa di carattere statale dove il principio per cui noi abbiamo l'arma e anche altri strumenti che si chiamano anche la legge regionale lo definisce anche il regolamento strumenti di autotutela è perché il principio è che sono fatti principalmente per la nostra autotutela quindi l'uso è chiaro che nel momento contingente in cui lo utilizzo posso fare un utilizzo anche per cercare di sedare una certa situazione che può potenzialmente essere pericolosa proprio perché ha una sua caratteristica che non è lesiva o meglio in alcuni casi potrebbe anche esserlo per quello che ci sono degli strumenti strumenti decontaminanti per cui può anche avere delle problematiche che sono proprio l'addestramento serve anche per cercare di risolvere questi problemi ma quindi lo strumento è sempre e comunque di autotutela faccio un esempio pratico che è un trattamento sanitario obbligatorio ci possono essere delle situazioni dove diventa difficile contenere una persona e come posso farlo? Cercando di isolarlo cercarlo in modo tale da poter il numero maggiore riuscire a circondarlo per poterlo fermare ecco può darsi che questo possa esserlo ma l'uso in questo caso che non è strettamente di autotutela è contemperato da una scusante non esimiente dal punto di vista di polizia giudiziaria perché serve comunque a salvaguardare la persona a cui in quel momento cioè quindi tecnicamente è uno strumento di autotutela tant'è che perché siamo arrivati a questo punto perché ci è voluto un regolamento nazionale che ha svincolato la possibilità di utilizzare un determinato tipo solo di prodotto con determinate quantità e di uso a serie stretto se si vede non so la polizia americana in generale hanno contenitori che si chiama OC che sono grossi così e che spruzzano no? come se fosse noi i nostri la normativa attuale prevede determinati tipi di contenitori con un getto balistico molto ravvicinato e il cui uso non è per niente facile vorrei anche precisare che l'uso di questo prodotto è contaminante non solo per chi perché fa un getto non solo per chi vado a mirare ma anche per coloro che stanno intorno è già successo che qualche buon tempone l'ha utilizzato o ricordo in piazza Lellero vicino alla fermata del bus ma succede magari in supermercati perché alcuni sono prodotti di libera vendita il problema è che noi per poterli utilizzare in servizio se lo facciamo dobbiamo essere autorizzati attraverso il regolamento altrimenti rischiamo che diversamente da un comune cittadino possiamo essere perseguiti se mi spiego per quello siamo qui auspicando questo tipo di regolamento perché è previsto proprio dalla normativa questi fini e la contaminazione di un ambiente grande bisogna areggiare non solo bisogna anche bagnare cioè di autotutela va usato nei modi e proprio per questo è previsto un addestramento e un utilizzo ecco è quello che prevede la norma niente di più insomma va bene grazie altri iscritti non vedo nessuno pertanto Piccinato prego consiglio Piccinato ma cosa siamo all'intervento generale discussione siamo a discussione ci si interventi sì grazie grazie presidente io ho letto insomma quanto ho scritto però non riesco ad essere completamente d'accordo con tutte le limitazioni che vengono insomma messe alle forze dell'ordine perché ci sono molte situazioni e più strumenti hanno a disposizione compreso lo spray al beperoncino più è facile che insomma riescano a valutare nella maniera migliore la situazione e utilizzare lo strumento più adeguato che possa essere da semplice fischietto in alcuni casi a armi vere e proprie che possono effettivamente andare a riportare l'ordine in una situazione magari estremamente pericolosa e quindi dal mio punto di vista ogni forza dell'ordine dovrebbe addestrata per tale utilizzo dovrebbe sempre comunque portare con sé l'arma per eccellenza che è la pistola perché non tanto per utilizzarla in sé quanto proprio per il fatto di avere la sensazione di sicurezza da parte della cittadinanza perché una forza di polizia che non riesce o che non può anzi meglio essere di effetto immediato in determinate situazioni comunque dal mio punto di vista è riduttivo quindi il discorso sullo spray che anche può essere solo ed esclusivamente da quanto ho capito mi scusino se no difensivo risulta un po' troppo secondo me limitante e quindi io ripeto più armi può avere a disposizione da quelle meno letali a quelle più letali le forze all'ordine meglio è dal mio punto di vista è anche un'esercitazione che sebbene sia risulti superiore rispetto a quella che avviene in altre forze dell'ordine comunque tre volte all'anno rispetto a prima è sempre riduttivo quindi io come dire mi trovo sempre voglio ringraziare le forze dell'ordine perché fanno costantemente tutto quanto nelle loro possibilità nella massima professionalità e rispetto a tantissimi altri paesi fanno veramente tutto quello che possono fare nel migliore dei modi e mi riferisco per esempio ai casi che avvengono negli Stati Uniti dove c'è un problema c'è il problema opposto magari nelle forze dell'ordine però io credo che avere delle forze dell'ordine oggi che siano loro paurose a poter usare gli strumenti che dal mio punto di vista dovrebbero usare in tanti casi è estremamente sconcertante sia per loro che per la tutela di tutti quindi da questo punto di vista credo che i nostri dirigenti i nostri politici debbano impegnarsi ad essere un po' più coraggiosi nella formulazione insomma di questi regolamenti e leggi che possono limitare insomma questi fenomeni grazie grazie consigliere Piccinato consigliere Piccin prego grazie presidente brevissimamente per un'osservazione e per annunciare a seguito dei chiarimenti avuti con il comandante e io non sono forte con i gradi vice comandante ah vice comandante allora è semplice ce la posso fare per annunciare il ritiro dell'emendamento e la considerazione le considerazioni le faccio in relazione alla dichiarazione di voto che anticipo qua per economia di tempo allora bene il fatto che ci sia un un ulteriore strumento a difesa di chi opera in condizioni non sempre facili e il riferimento non è solo a quella che è l'attività di vigilanza esterna ma anche a determinati servizi che la polizia locale deve in qualche modo affrontare e credo che quello che diceva prima il vice comandante del TSO sia uno di quei casi che sono spesso volentieri critici e quindi da questo punto di vista sono favorevole naturalmente per quanto riguarda dei dubbi e delle perplessità mi rimangono seppure abbiamo affrontato questo aspetto anche in commissione riguardo alla riduzione del diciamo così delle esercitazioni che vengono fatte anche se mi è stata data rassicurazione sul fatto che le valutazioni sono state fatte che le esercitazioni vengono fatte secondo norme in conformità e con degli istruttori di tiro insomma particolarmente come dire bravi complessivamente quindi il voto per quanto mi riguarda poi non so se il gruppo farà delle dichiarazioni in difformità sarà di astensione benevola grazie grazie consigliere Manzon prego lo stesso anch'io con un intervento senz'altro breve volevo un po' cercare di sottolineare che nel nostro modo di vedere l'adozione di questo strumento che potrebbe sembrare riduttivo se seguiamo poi l'intervento del collega Piccinato io non la metterei sul piano della paura delle forze dell'ordine come le ha chiamate lui della polizia municipale ecco come è più opportuno chiamarlo comunale che dir si voglia la metterei su un piano di gradualità cioè le nostre i nostri chiamiamoli difensori ecco il difensore del cittadino deve far molta attenzione a utilizzare gli strumenti che sono gradualmente commisurati a livello di delinquenza che eventualmente è presente in città quindi io trovo che sia importante che ci sia sistematicamente un'opportuna taratura sugli strumenti da utilizzare in modo tale che non ci sia rimando ecco io penso che un po' tutti siano consapevoli del fatto che armi importanti armi ecco possiamo chiamarle semplicemente così armi inducono comportamenti che elevano il livello di violenza possibile potenziale mentre invece strumenti di autodifesa come li abbiamo chiamati ma anche di tutela del cittadino ridotti per intensità possano produrre anche nella parte aggressiva un comportamento commisurato quindi io ritengo che il principio di gradualità mi piace chiamarlo così che stiamo adottando c'è l'attenzione per il fatto che per il livello di sviluppo di delinquenza che abbiamo in città possa essere sufficiente uno spray ma sembra un bel messaggio per la città che si sente rassicurata per quel livello di difesa di cui ha bisogno certo ci possono essere ci raccontava il comandante l'altro giorno ecco degli eccessi anche le nostre anche la nostra polizia municipale è stata coinvolta in un episodio grave qualche anno fa ecco sicuramente dobbiamo essere pronti a questo però non va dimenticato il fatto che un livello attento di autodifesa è in grado di stimolare comportamenti ecco di aggressività ridotti quindi io ritengo che sia proprio una scelta opportuna e attenta per il nostro livello ecocittadino noi vogliamo che il cittadino si autoedichi il cittadino sia molto attento a quello che può succedere all'intorno però non vogliamo neanche incrementare le sue paure girando ecco faccio il paradossale non possiamo girare con un mitra per mostrare di essere iperpotenti e di ottenere un effetto deterrente con chi eventualmente si vuole adottare i comportamenti maldestri in città noi pensiamo che sia opportuno essere attenti a quello che è il nostro livello grazie grazie nessuno iscritto pertanto dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo nessuno iscritto dichiaro chiuso la discussione chiedo all'amministrazione se vuole intervenire no pertanto passiamo alle votazioni pertanto l'emendamento scusate è vero dichiarazione di voto pensavo averle già fatte prego dichiarazione di voto grazie presidente sarò velocissimo sicuramente il voto sarà un voto a favore perché l'abbiamo sottolineato tutto è necessario tanto la tutela degli operatori quanto anche la percezione da parte dei cittadini un unico in commissione avevo evidenziato avevo chiesto chiarimenti al comandante proprio sulla riduzione del numero di di tiri di addestramento e quindi ecco lì era un attimo scettico sono stato rassicurato al comandante quindi chi meglio di lui verrebbe da dire conosce i suoi uomini quindi sicuramente più addestramento garantirebbe forse non dico l'eccesso che non c'è mai un eccesso di sicurezza però comporterebbe magari difficoltà forse maggiori dei benefici quindi prendiamo per buono la riduzione e auguriamoci che tutto vada per il meglio come ci ha assicurato il comandante quindi voto a favore grazie grazie consigliere Ribetti consigliere Pedicini prego molto brevemente grazie anche alle assicurazioni quindi c'è un uso discrezionale non ci sono problemi e questo mi fa molto piacere per quanto riguarda le altre modifiche che vengono poste al regolamento mi sembrano tutte di buon senso ne avevamo parlato anche in commissione quindi annuncio un voto favorevole per quanto riguarda la delibera grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente sì come come la mia collega anch'io annuncio voto di estensione perché appunto non 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 me la sento insomma di di rendermi partecipe di un comunque di quelle che sono le limitazioni attuali che vengono che vengono date alle forze dell'ordine e quindi come tale non è un piccolo segnale comunque qualcosa che verrà comunque in ogni caso reso effettivo ma è un piccolo segnale che voglio dare nel senso di questo segnale di estensione da questo punto di vista forse per me io darei a tutti la disponibilità di vari dai manganelli anche al al tonfa addirittura anche il taser perché può essere in certe situazioni utile quindi fosse per me darei una completa dotazione io quindi auspico che tutto vada per il meglio che in ogni caso si riesca auguro alle forze dell'ordine veramente di fare il loro lavoro nelle migliori condizioni possibili grazie 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 consiglio appiccinato nessun altro iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene allora l'emendamento è stato ritirato come avete sentito appoggo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 15 2015 modifiche gli articoli 4 5 e 8 del regolamento speciale norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale del comune di Pordenone approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 65 del 23 luglio 1998 relativi alla dotazione spray antiaggressione al personale della polizia locale ed all'esonero del porto d'arma quando la peculiarità del servizio consigli la non ostentazione di tali mezzi dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 31 votanti 30 maggioranza 21 favorevoli 28 contrari nessuno astenuti 2 la deliberazione è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 31 votanti 30 maggioranza 21 favorevoli 28 contrari nessuno astenuti 2 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene signori passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 16 2015 approvazione della variante numero 131 piano regolatore generale comunale adottata con deliberazione consigliare numero 52 del 15 dicembre 2014 previo esame contradduzioni e osservazioni pervenute la parola al sessore Toffolo prego grazie signor presidente il 15 dicembre 2014 è stato da questo consiglio adottata la variante al piano regolatore dal titolo integrazione grafico normativa finalizzata agli interventi di difesa del territorio delle acque per far memoria al consiglio è quella variante che ha riconosciuto il sistema idrografico minore nella zona nei quartieri di Valle Noncello e Villanova la cui manutenzione in questo modo viene in carico l'amministrazione e garantirà una manutenzione corretta di esso per prevenire e gestire in modo ottimale il sistema di smaltimento delle acque durante il periodo di pubblicazione sono pervenute due osservazioni che l'ufficio competente propone di accogliere entrambe la prima fa presente che rispetto al tracciato identificato in piano il tracciato reale si discosta leggermente quindi viene rettificato graficamente nella seconda invece viene fatto presente e viene richiesto l'inserimento nel reticolo dell'idrografico minore anche del rio San Leonardo e anche in questo caso che è un piccolo rio che è presente nella parte sud di Pordenone anche in questo caso l'ufficio competente propone l'accoglimento inserendo anche questo all'interno di quelli per i quali andremmo a fare appunto manutenzione riconoscendoli se volete ho anche le slide di presentazione della variante ma grazie signor presidente ho finito grazie sessore Pettoffolo richieste di chiarimenti nessuno dichiaro aperta la discussione nessuno iscritto dichiaro chiuso il primo intervento secondo intervento nessuno iscritto dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto nessuno iscritto dichiaro chiusa la dichiarazione di voto bene allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 16 2015 approvazione della variante numero 131 piano regolatore generale comunale adottata con deliberazione consigliare numero 52 del 15 dicembre 2014 previo esame e contradduzioni e osservazioni pervenute dichiaro aperte l'operazione di voto l'esito la votazione è seguente presenti 28 votanti 26 maggioranza 14 favorevoli 26 contrario nessuno astenuto nessuno la deliberazione viene approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto tutti avete votato dichiaro chiuso l'operazione di voto legge la votazione è seguente presenti 28 votanti 26 maggioranza 21 favorevoli 26 contrario nessuno astenuto nessuno la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene signori grazie si chiudono i lavori alle 23 13 il consiglio verrà riconvocato a domicilio grazie buonanotte